Allora, omicidio di Meredith Kercher Iniziamo quindi Che è conosciuto anche come Delitto di Perugia O delitto di Via della Pergola Perché la casa È situata in Via della Pergola, Perugia Ok La sera del primo novembre, però forse Mirko mi ha corretto La sera del 31 ottobre Comunque, non voglio sbagliarmi Insomma, in quei due giorni, in quel giorno, una notte O il 31 ottobre O il primo novembre È accaduto questo omicidio Halloween, dicono La notte, ecco, infatti Non ho ancora capito se era la notte di Se era la notte di Halloween O fosse il giorno dopo Il primo novembre No, nella notte di Halloween, ok Quindi Meredith Kercher, studentessa Di 23 anni, se non erro Inglese, ok Si trovava in Italia, Perugia Appunto per il progetto Erasmus E studiava all'università Viene ritrovata Senza vita Con la gola tagliata Nella propria camera da letto Nella casa che condivideva Con Amanda Knox Che impareremo a conoscere E altre due coinquiline italiane Vabbè, la scena del crimine Era veramente Spaventosa Era capricciante Il problema Qual è Qual è il succo di questo caso? È che c'è appunto un condannato Che è Rudy Ghede E due assolti Amanda Knox E il fidanzato All'epoca Finanzato Raffaele Sollecito Non sono più insieme Prima condannati Poi assolti In via definitiva E poi vedremo tutto il processo Il succo però Come dicevo Di questo caso È che è un caso Costellato Da una miriade Una miriade Di errori Di errori Sulla rilevazione Delle impronte Del DNA Dei rilievi scientifici Un sacco di errori Giudiziari E tantissimi E tantissimo condizionamento Da parte della stappa Quindi indagini Svolte in una maniera Obreobrosa Si può dire A cazzo di cane A cazzo di cane Purtroppo E quindi E quindi Per quello che Diciamo Sia un po' La percezione Che sia comunque Un caso Irrisolto Anche se ripeto Dal punto di vista processuale Tutto si è concluso Ok Ok Quindi c'è un verdetto No c'è Dal punto di vista processuale Ma si ha la sensazione Esatto Saccolo un po' Quei casi di cronaca nera Che poi vengono presi Ribaltati Rigirati Dall'opinione pubblica Dai giornalisti Dai media Che ovviamente Scrive una persona In un modo Quando magari In un altro Vabbè Si sa Che poi I giornalisti Devono scrivere qualcosa E Mentre vai Magari ti fermo ogni tanto Che voglio capire Le secondi delle cose Sì certo Ci fermeremo ragazzi Anche se vedremo Come dicevo Solo la prima parte Sicuramente Magari inizieremo Un po' di dibattito Però Io pensavo Magari più Di fare un dibattito Un po' Il cringe totale Magari Grazie roses Magari Magari Nella seconda parte Quindi mercoledì prossimo Che partiamo subito Ovviamente Non faremo più introduzione Niente Partiamo subito A vedere la seconda parte Così Chiudiamo Avendo il quadro completo Ovviamente È più facile Poter fare dibattito Eserci fatto un'idea Anche voi Fare un dibattito Eccetera eccetera Grazie per la sub Grazie Grazie mille Partiamo dai Allora cuffiette Voi siete pronti Raga Ormai queste seratine Crime Mi mancavano Un po' Che non andavamo Ciao amici Sì sì Infatti Un po' che non facevamo La crime Vero Sì E poi ragazzi Ci entra anche un po' Ma secondo me Non è così rilevante Come tanti hanno detto O hanno considerato Il rapporto Cioè il fatto che Amanda Knox Che era una Dei Il crime totale Grazie Grazie Nigiri Grazie mille Fosse Statunitense Bla 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 Cioè per me Questa cosa È abbastanza Laterale Cioè non Non credo C'entri nulla Con Le varie sentenze Almeno tutto quello Che ho sentito Letto eccetera Non credo Che l'America Abbia fatto pressione Non lo so No so che Anche il presidente Trump Il presidente All'epoca non era presidente Era intervenuto In favore di Amanda Per poi sputarle Addosso Quando lei Ha sostenuto pubblicamente La Clinton Vabbè ragazzi C'è robe americane Comunque Non mi stupisce Queste sono piccole curiosità In più Che non ci interessano Comunque i fini Del caso Ok Partiamo Gestisci tu Fai tu tutto No no Fai sempre lo solito Ci siete? Andiamo eh Inutile Via Puoi aumentare Anche al massimo Il cammino Davinieri Perugia Pronto Buongiorno Senza Qualcuno È praticamente Entrato In casa Sfondando la finestra La via Della pergola Aspetta Perugia Studentessa inglese Di 22 anni Barbaramente uccisa Nella sua camera Da letto Nella stanza Ah no Aspetta Hai messo il disclaimer Messo il disclaimer Scusate Ma le raffigurazioni violente Ho messo Sì sì no So che avrete visto il disclaimer Però effettivamente Posso capire Cioè si vedono veramente le cose Quindi se siete magari C'è Nico no? Ho messo il disclaimer Cioè Capisco se magari Hanno riusciato a vederlo Perché Certo capisco Sono scene comunque Abbastanza pesanti Meredith Mi rendevo conto Che era un lago Quel pavimento Era pieno di sangue La ferita che aveva All'altezza del collo Era tipica Dell'arma Da taglio Eh Meredith La Perugia Ci ho vissuto In tutto quattro anni In questo contesto Ho conosciuto Amanda Da lì Purtroppo Però Dopo una settimana Nemmeno Ci fu appunto Il misfatto Ci sono una serie di cose Sul comportamento di Amanda Che non tornano Mi sollecito dice Io ho detto finora Un sacco di Cazzate Questa è la parola Che lui usa Perché me l'ha fatte dire Amanda Sono cose che sono state Anche di un certo dramma Di una certa pesantezza Quindi Rievocarle Non mi fa mai piacere Quindi lui difendeva Amanda Giusto? No poi lo vedremo Ma non è che difendeva Amanda Non hanno Loro sono sempre Reputati innocenti Allora Hanno fornito Delle dichiarazioni Molto confuse Molto contorte Probabilmente anche sotto pressione Ma loro sono sempre Dichiarati innocenti Però prima C'erano che erano Sulla scena Cioè in casa Poi no Insomma Si sono un po' Intortati Nella mia tutta Incredulità Mi ritrovo Ne manette di polso Sono Amanda Knox Coinquilina Raffaele Sollecito Il suo fidanzato Ed Ia Lubumba Detto Patrick I tre fermati Per il delitto Della giovane inglese Nella villetta Dell'orrore Patrick ma perché Amanda ha accusato lei? Perché Amanda ha detto Quelle cose? Sì diciamo che Io non userei Le parole Forse aggredite Dalla polizia Perché in realtà Non ci sono prove Di questa cosa Cioè si sa Che probabilmente Io parlo Di essere messa Sotto pressione Perché Nell'interrogatorio Effettivamente Alcune volte Hanno messo Di chiamare avvocati Eccetera Per farli Desistere Per farli Crollare Secondo delle loro Strategie Che è sbagliato Ovviamente Obiettivamente Ma non ci sono prove Che siano stati Aggrediti Dalla polizia Cioè aggrediti Fisicamente Non ci sono prove Succedono due colpi Di scena Come senti? Sono bifuso Già Io Sono bifuso Sul cuscino Accanto Al corpo Di Meredith Ci sono Delle impronte Del cosiddetto Quarto uomo Ok 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 È una specie di recap Fino all'interno Della prima parte Ok Comunque Sì sì Certo Immagino che Raffaele Nel suo libro Ha scritto Quello che voleva scrivere lui Come Amanda Avrà scritto Quello che voleva scrivere lei Come L'accusa Scrive Dice Quello che vuole scrivere L'accusa Cioè insomma È ovvio che ognuno poi Tira l'acqua Il proprio mulino Cioè è sempre stato così Certo La casa era infrattata A Perugia ci ho vissuto in tutto 4 anni E' sempre avuto una vita Molto universitaria Nel senso che per me era la prima esperienza fuori Per prima cosa ero ossessionato dall'idea di non deludere le aspettative dei miei che mi stavano mantenendo in università Per un attimo Avevo capito che fosse sollecito Questo documentario fate conto nel 2021 Queste foto sono del 2007 Cioè quindi Qui sono passati 15 anni Tranquillamente fa Cioè perché c'è stato il processo Lui è libero Lui è stato assolto dopo due anni In via definitiva Questo contesto Io ho conosciuto Amanda L'avevo conosciuto Un concetto di musica classica Questo concetto Suonavano Schubert e Astor Piazzolla E quando l'ho notata C'è sempre stato uno scambio di sguardi E io Diciamo Anche se ero abbastanza timido Mi sono fatto coraggio Gli ho chiesto Se aveva voglia Se ci sedevamo lì vicino a lei Abbiamo iniziato a parlare Così ci siamo conosciuti La classica ragazza acqua e sapone Che era bella così com'è Con la pelle candida No One shot One shot Mi ha detto che lavorava Al bar di Patrick Lou Mumba Se hai voglia dopo di fare Penseggiata con me Dopo l'orario lavorativo Io ti aspetto E dopo siamo Quindi loro due Si conoscono a Perugia Ok Anche lei Lei aveva 26 anni Se non sbaglio E tempi Ed era andata E venuta in Italia Sia per studiare Che per lavorare E lei faceva la cameriera lì E sì Saltoriamente Lavorava in questo locale Le chic Tre chic Mi pare di Perugia E niente Raffaile Anche lui studiava E si è conosciuta E ha iniziato a frequentarsi Semplicemente Siamo andati Sulla cucuzzula Della collina Lo scenario Decisamente mozzafiato Anche abbastanza romantico E lì Vabbè A vent'anni Mi siamo dati Il primo bacio Io Mi ero già affezionato Subito Perché poi sono anche Un po' così io E avevo iniziato Questa frequentazione Che in qualche maniera Avevo iniziato a fare Una mezza convivenza Non so come chiamarla Cioè Praticamente ci vedevamo Ogni giorno Ogni sera Lei rimaneva da me Da lì Purtroppo Però dopo una settimana Nemmeno Una settimana? Ci fu appunto Il misfatto Dopo una settimana Sesso il macello A casa loro Esatto Dopo una settimana Che si frequentavano Quindi loro hanno avuto Occasioni insieme Praticamente solo una settimana No vabbè Non ci credo Perché poi dopo Ovviamente Per tutto quello che è successo Si sono lasciati Madonna E lei è Meredith Studentessa inglese Di 22 anni Barbaramente uccisa Nella sua camera da letto In una villetta Vicino all'università Per stranieri Gli investigatori Hanno bussato alla sua porta Non ricevendo alcuna risposta L'hanno sfondata E hanno trovato La giovane senza vita Me lo ricordo bene Perché era il giorno 2 novembre Che era la festa Dei defunti E ricevo una telefonata Del vice dirigente Della mobile Che mi avverte Guardi che è stato trovato Il cadavere Di una ragazza Nella zona Di via della Pergola Lui è il PM Che seguirà il caso Molto criticato Poco dopo Che ero arrivato Mi dissero Che il cadavere Era di una ragazza inglese Entrai nella casa Cominciai a guardarmi intorno A guardare le stanze Nella stanza di Meredith Si capiva che c'era il cadavere Sotto il piumone Sporgeva il piede sinistro Nudo Mi rendevo conto Che era un lago Quel pavimento Era pieno di sangue E quindi Era difficile Entrare Non alterare La scena del delitto Incredibile raga 2021 Sakura Si Ho capito Era difficile Non entrare In un'altra E che cazzo Entri a fare Cioè nel senso Mi pare ovvio Che ci sia lì un cadavere Cioè Entrato No Probabilmente Si Tanti Diciamo Che Sono andati a mettere le mani Abbastanza concitata Era un nostro collaboratore Che mi dice Guarda io sono vicino All'università per stranieri Perché c'è un cadavere All'interno di un'abitazione Sono andato sul posto Portando con me Un collega Un telecine operatore E subito la caccia Tra le tante persone che c'erano Io ho visto Due 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 giovani Che si confortavano Allora ho detto All'operatore Rico Riprendi Quei due ragazzi Che probabilmente Sono due amici Della Della vittima E queste sono le famose immagini Che ovviamente De contestualizzate Sembra che Ovviamente ho iniziato a descrivere Amanda Come la gelida Conquilina Della vittima Che invece di piangere Si confortava Con il ragazzo Che Voglio dire Forse è la cosa che faremmo tutti Cioè essere confortati Poi Si sono scambiati Un bacio a stampo E da lì È scoppiato il putifero Quindi là Lei pensa a baciarsi Invece Di piangere disperata E buttarsi per terra Per la coinquilina Morta Quando Giustamente Allora Innanzitutto Hortano presupposto Che ognuno Affronta queste Situazioni di shock In modo diverso E appunto Perché è stata Una situazione scioccante Sando quello che Dicono loro Eh Io dico sempre Che sono arrivati Si sono trovati Avanti questa scena È successo tutto questo Cioè Magari Uno non ha neanche il tempo Di capire Mettersi a piangere Certo Nel senso Poi Sicuramente Amanda In tutto ciò E per tutto Il tempo a venire Ha avuto Degli atteggiamenti Ambigui Che secondo me Non erano riferiti Al crimine in sé Secondo me Era solo Molto immatura Cioè Era una ragazza Molto esuberante Però Molto molto immatura Probabilmente Forse non si comportava Come tutti Ci saremmo comportati In modo canonico Nelle situazioni Ma questo vuol dire Che una persona Sia un assassino I due ragazzi Io li vidi subito La ragazza era Probabilmente straniera Anglo-americana Probabilmente Questa ragazza Appariva molto smarrita Era completamente smarrita Si stringeva A questo giovane Che mi appariva Invece Un pochino più sicuro Erano Amanda Dice Ciao io torno a casa Mi cambio Mi danno la lavata Insomma E poi Non so Ci rivediamo Ma si sa quando Scusate Si sa quando C'è l'orario Il giorno del decesso Quella notte Quella notte lì Si Ovviamente A dormire Ma ritrovo Che ritorna da me Ed era agitata E mi stava aspettando Che mi desse una mossa Poi mi ha raccontato Che la chiamata di Raffaele Quindi Cioè Ritorno alla casa E chiamano Lei ritorna da lui E poi ritorna alla casa Perché le dice C'è qualcosa Che non va Ok Porta aperta E che non sapeva Se era entrato un ladro O cosa fosse successo Ha trovato la porta aperta Quando sono entrato Nella casa La mandia Era agitata Mi sono messo A prelustrare Intorno E le cose Che mi hanno Un po' Lasciato perplesso Sono state Delle manchioline Di sangue Sul lavandino Un pavimento Diciamo Con Dello sporco Un po' Vistoso E La stanza Della romanella Lì completamente A soquado Questa è la stanza Di Meredith No Di un'altra Delle inquiline Che non c'era Esatto Indietro la porta Della romanella Lì c'erano Vettri rotti Vestiti Lasciati per terra Disastro Quando mi sono reso conto Che la porta Di Meredith Era chiusa a chiave Lì Mi sono preoccupato Ma nella mia testa Pensavo che ci fosse Magari il ladro Che Però Perché Soprattutto Non si sono Cioè Non è che non si sono Preoccupati Perché In tutto ciò Amanda Ha chiamato Ovviamente Le altre inquiline Per dire C'è qualcosa Che non va Forse è entrato Un ladro Ok Meredith Era l'unica Che non rispondeva Bussavano Al telefono Bussavano Alla porta Non rispondeva Neanche Dalla porta Però Amanda Fa Meredith Era solita Chiudersi a chiave In camera Quindi non c'ha Neanche Cioè È per quello Che da una parte Si è preoccupata Perché Si era chiusa Cioè Lei pensava Se è chiusa dentro Non mi risponde Quindi poi A un certo punto La sfondano E si era chiusa A chiave Perché In cosa Li prendevano Non lo so Quindi ho detto Che cosa faccio Sfondo la porta Trovo il che Chiamo mia sorella Che era All'epoca Tenente dei carabinieri E lei mi dice Non toccare niente Io avevo Il cringe totale Consigliato di chiamare I carabinieri locali Grazie Kurama Quindi sono lì Insomma Situazione in cui E quindi Spacca la porta No Situazione in cui Dicono Cavolo Forse è entrato Un ladro Cos'è successo La finestra rotta La porta un po' aperta Le Amanda appunto Era agitata Perché quando Era tornata a casa Era l'unica Dentro in casa E Ci avrebbe La porta appunto Di Meredith La stanza Chiusa a chiave E allora Lui cosa fa Chiama la sorella Che lavorava in polizia Per chiederle un consiglio La sorella dice Chiama subito I carabinieri La polizia Magari Era una carabiniera E si Ma l'ha chiamata Privatamente Non è che devi chiamarla Centrale E noi poi li chiamo io I carabinieri Ah si ok Ah aspetta aspetta Carabinieri Sono ragazze I capelli blu Come avete parlato L'ultimo giorno Di Luca Comics Grande Ciao Come stai Tutto bene Raga questa è la chiamata Di lui E ai carabinieri Perugia Che dicono Chiamiamo i carabinieri Ok ok Prima di toccare Madonna ma è in ghiacciante Di far Di aprire La sfondare Porte Tutto Buongiorno Senza Qualcuno Praticamente è entrato In casa Sfondando Adesso non ho capito Lui sta chiamando Ma ha già sfondato La porta di Meredith No 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 Cioè quindi Meredith È ancora chiusa lì Eh si Ciao Nat Ciao Franci Come stai? Come stai? Tutto bene? Arriviamo a 550 sub? Sarebbe figo Il cringe totale Grazie Fre Grazie Grazie raga per il supporto Grazie ragazzi Che bello Ha messo un moto di solde C'è una porta chiusa La via Io te la cercola La fa invitazione signora Allora guarda La Chi abita dentro E sono un gruppo di studenti Mi dia il nome E il cellulare Di uno Degli affittuari Ok La mano Il c Il tuo nome è K N C O X Sì Mi sono messo con una mano Ad aspettare i carabinieri fuori Non arrivano i carabinieri Arrivano dei poliziotti Della polizia postale Qualcuno è entrato in casa Ha rotto il vetro Cosa hanno portato? No Non ha portato via niente Il problema è che c'è una porta chiusa Ci sono molti No 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 C'è una porta chiusa Qual è la porta chiusa? Una delle confine che non c'è Non sappiamo No 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 C'è una porta chiusa E Lei è morta dentro la porta Sì E come C'è L'ha chiusa qualcuno? O ha sfondato? Allora ragazzi Questo È Un dubbio Che ho Che poi ne parleremo Della porta chiusa dall'interno Io non ho ancora capito Come poi l'assassino Si è scappato Cioè è proprio un dubbio Che mi porno dentro Che nessuno Cioè No tu puoi chiudere Anche dall'esterno Nelle case Ah già Sì che cazzo dico Hai la chiave La chiave che è passepartout Sì che è scemo Lui ha chiuso L'ha chiuso la porta Sì cosa sto dicendo L'avrà uccisa Avrà chiuso la porta Ed è uscito da dove è entrato Sì 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 che coglione Delle chiavi di casa Dico dentro casa Comunque Io già qua Già Se vado Se penso A tutto quello che poi ho visto E sentito Effettivamente Riascoltando la chiamata Saluto Cioè A me la chiamata di Raffaele Mi sembra abbastanza lineare Mi sembra di uno che Cioè mi sembra un ragazzo Che sia un attimo disorientato Perché Che magari non si è mai presentato In situazioni del genere Amanda le parlerà in inglese Mentre che lui chiama I poliziotti Lei è agitata E spaventata La casa non è sua Però A me mi sembra Comunque una persona Relativamente tranquilla Cioè non una persona Che magari deve cercare Di nascondere Boh Cossanno di poi Devo dire La vedo Molto così Anche perché Quella originale Non è una ricostruzione Sì sì I poliziotti Per prelustrare Hanno detto Noi non abbiamo Il mandato Quindi Se volete che prelustriamo Lo dovete fare voi Alla fine Sono venuti Gli inquilini Sia Laura Che la Mezzetti Eccetera Sono entrati Uno degli amici Di Laro Mezzetti Ha sfondato la porta Hanno sfondato la porta E lo stesso Che ha sfondato la porta Indietreggio Cioè saltano tutti All'indietro Le ragazze che urlano Strillano Come delle pazze Gli scrivevano le cose In maniera totalmente Insensata Casuale Dicevano C'è un piede Armadio C'era panico Io e Amanda Stavamo alla fine Del corridoio Prima cosa Io La spingo fuori E usciamo fuori C'è un piede E perché avranno visto Il piede così C'è Ha detto Hanno scritto le cose In maniera Confusionaria Cioè immaginate Di aprire una porta E trovarmi Una scena Della gine Davanti a voi Il cringe totale Grazie Triple 7 Ciao bro Che fine avevi fatto Ciao Grazie mille Grazie per la sal Cinque mesi Eh triplo Tanto eh E da qui partiva tutto Perché ovviamente Polizia E arriviamo a questo momento Ok ok Ho cercato di tranquillizzarla E lei era preoccupata Che c'era la famiglia distante E dico Ma ci sono qui io E in quel momento ho detto Devo cercare un attimino Di confortarla In tutto questo Qui parla di quelle immagini Sì 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 Ok Questo macello Era venuto fuori Che C'era Meredith Morta Dicono che è stata coltellata E di lì Sostanzialmente Si configura Uno scenario Che è È scioccante Intorno alle 16.30 17 Questi due ragazzi Che io avevo visto Abbracciarsi Sono stati caricati Sulle macchine Della polizia E portati via A noi ci dissero Di cringe totale Ciao Mascone Grazie Grazie per la sub Bene bene Cerchiamo di interrompere Comunque un po' meno No dico Dato che poi caricheremo Adesso anche su youtube Così ovviamente Poi vi ringraziamo tutti Però cerchiamo di andare Un po' più sciolti Di fermo né niente Sono andati via Per essere interrogati Per essere sentiti Come persone informate Dei fatti Certo Come gli ladri A metà del poveriggio La ricostruzione Che girava era questa La ragazza È una studentessa Straniera È stata sgozzata Probabilmente È stata uccisa Da un ladro Che lei Ha colto Sul fatto Perché Perché c'era Il vetro Di una Finestra Rotto E che Ragazzi Probabilmente Era la cosa Più semplice Da dire no? Probabilmente Così è andata Cioè era lo scenario Più semplice A volte come pensiamo Ci dobbiamo costruire Su tutto un castello In aria E invece Probabilmente è andata Proprio così La cosa che mi colpì In particolare Fu La effrazione Io vedi La pietra Che era Sotto Uno sgavello E poi anche Sotto un tavolino Vedo i vetri E vedo i vestiti Buttati sul letto Con i vetri sopra Cioè i vetri Erano sopra I vestiti Allora io Ritenni Che si trattava Di uno staging Cioè Del tentativo Di accreditare Una intrusione Di un terzo All'interno Della stanza Di questa ragazza Calabrese Filomena Romanelli Questa operazione Doveva essere stata Posta in essere Da chi Per via Della sua Della sua Coabitazione O della sua Frequentazione Nella casa Poteva avere Timore Di essere Individuato Meredith Meredith viveva Cioè quindi Vabbè Scusate Pensa che era Tutta una Scena Ma come puoi pensare Allora io No io capisco Sicuramente L'esperienza Di una persona Poi Certo uno che fa Pubblico Poi riguardo a queste cose Non si sa mai Veramente la verità Se non in pochi casi Fortunati In cui si riesce Veramente a ricostruire Le cose Come sono andate Veramente Ma come cazzo È fatto in tre minuti A pensare Tutta sta roba A parte che in quella Casa vivevano In quattro E gli amici E il fidanzato Cioè un attimo Nel senso È giusto Farsi già magari Un quadro generale Magari loro Lui di primo acchito Con l'esperienza Che ha Dice Eh però I vetri sono sopra I vestiti Secondo me È una messa in scena Ok però Cioè non puoi Subito farti un quadro Di chi è stato A fare cosa Appena scoperto Il corpo Altre tre ragazze Che la notte precedente Al delitto Non hanno dormito In casa Meredith conosceva Il suo assassino A condurre al carnefice Potrebbero essere Gli esami effettuati Sui campioni Di liquidi organici Trovati sul corpo Le sue frequentazioni E i tabulati Dei cellulari A tarda sera Ancora C'era sul posto Sia la polizia scientifica Sia il primo medico legale Incaricato del caso Questo è stato anche strappato Sì è stato strappato Manca la parte dei gancetti Allora Attenzione Aspettate Attenzione a questa parte Ve la introduco un attimo Rilevamenti della polizia scientifica Trovano il regista E non strappato di Meredith Manca questo gancetto Il famoso gancetto Che è stato poi C'è un famoso gancetto Al centro di tutte le indagini Questo gancetto Adesso in questo momento Sentirete che dicono Eh se è stato strappato Manca il gancetto Il gancetto Era esattamente Sotto i loro occhi Lo vedono E dicono Ah ecco il gancetto Poi non si sa per quale Motivo indefinito Questo gancetto Verrà preso tipo Non ho capito Quanti giorni dopo Ormai spostato Cioè in un altro luogo Non in quello Dove loro l'avevano visto In quel momento Perché avranno Prendendolo a calci Prendendolo a calci Sicuramente Spostandolo Prendendolo in mano Con i guanti sporchi Vabbè ma allora c'è E ovviamente Quindi sul gancetto Poi a un certo punto Ha trovato il DNA Di Raffaele Sollecito Solo lì però Cioè solo lì eh Insomma Vabbè È stato strappato Qui è scuscito La parte dei gancetti Il maschio Della grappina Ma il calpezzo del gancetto Eh sì Però il fatto È intriso di sangue Quindi questo ce l'aveva Nel momento in cui S'ammazzata Avevano ovviamente Illuminato Le stanze dall'esterno Ricordo perfettamente Che si vedevano Le tute bianche Che si muovevano All'interno dell'abitazione Ancora non avevamo Noi contezza Di quale fosse Esattamente il perimetro Della casa Interessata al delitto Sapevamo che Era avvenuto Nella stanza di Meredith Delle prime tracce Più significative Che sono balzate Negli occhi Della polizia scientifica Sono state Le tracce di sangue Di lavato Perché era Di un colore rosa Quindi non rosso Sparse un po' Su tutto il bagno piccolo Che era quello utilizzato Da Meredith E da Amanda Knox Queste tracce Erano sull'interruzione Cosa? E adesso magari lo dico Dottore della luce Sul bidet Sul lavandino Su una scatola Di cotton fioc E hanno lasciato Pensare Sin da subito Ad un'opera Di pulitura Da parte Dell'assassino Sul tappetino Del bagno Era impressa Un'impronta Di sangue Che lasciava Intravedere Praticamente Quasi tutta L'orma Di un piede Vennero rinvenute Delle feci Non scaricate Nel water Anche sta roba Ricordatevi bene Questi elementi Anche delle feci Non scaricate Nel bagno Il problema È che A quanto capito Scientificamente Parlando Dalle feci Non si può Arrivare al DNA Esatto Ah sì? O comunque Ah può essere Sono elementi Cioè non è mai stato stabilito Fossero di ludicidae Ovviamente poi vedremo Che probabilmente Sono effettivamente Su No no L'ha detto Scusate lui L'aveva detto Quindi sono sue Ma scientificamente Proprio dico Tecnicamente Credo non si possano Estrarre Delle prove Genetiche Dalle feci O comunque Dopo un po' di tempo Diventano Cioè Troppo deteriorati Capito? Non sapevo Lungo il corridoio Vennero esaltate Con luminos Delle impronte Di piedi nudi Allora Strescietta metrica Delle impronte Di scarpa Destra Ok C'era tanto sangue C'erano tante macchie Di sangue In più parti Di quell'abitazione Compreso Il bagno Dove Ci arrivava Notizia Che c'erano Delle Importanti Tracce biologiche Che avrebbero potuto Individuare Una persona Scusa Un'altra cosa Ci arrivava Notizia E chi è che Vede dare notizie Se non chi sta Lavorando In questo momento Al caso Cioè il giornalista Ci è arrivata notizia Perché poi è così Ragazzi Perché poi Ma poi la voce Lo dì Il PM Anche magari Ma non è solo il PM Chi ci lavora La polizia Che a volte Fa passare Allora a volte Lo fanno come strategia A volte funziona Nel senso che In determinati casi Fanno passare Delle notizie Apposta Per vedere Magari azioni Di persone Blah 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 Però in questo caso Cioè ci è arrivata notizia Mi fa ridere Anche il giornalista Che ci è arrivata notizia Vabbè Cosa deve dire È arrivata la notizia Volando Che deve dire questo Dal bagno Nell'aria Ha trovato delle parole Le ha scritte Da lì Cominciare Le indagini A vedere Che cosa Fosse successo E chiaramente C'era un'inchiesta Aperta Formalmente Per omicidio Volontario Però A opera Di ignoti Perché L'assassino Non si sapeva Il cringe totale Basta 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 Per favore Basta Grazie Emma Quattro metri Ciao Ciao Le prime ore Ancora C'era parecchia confusione Iniziamo immediatamente A lavorare Su più fronti Come si lavora sempre In caso di un omicidio E quindi A isolare Il profilo Della vittima Iniziamo a sentire L'università Per stranieri Per capire Meredith Chi fosse Da quanto fosse arrivata Che cosa stava facendo Con chi viveva In quell'abitazione In via Dalla perbola Era arrivata A Perugia Due mesi fa Grazie al progetto Eras Poi vabbè ragazzi Che titoli sono L'inglesina Che voleva Ma che titoli è Ma cosa vuol dire A volte veramente C'è boh Sì ma poi Sui casi Di cronaca nera È proprio Un gran bordello Veramente Musso di scambi universitari Meredith Kirkel Meredith a Londra Viveva con il padre John Kirkel Giornalista freelance Che si è detto Sotto shock Devastato e sgomento Questo Questo è il momento Sua pa giornalista Non ho capito Questo è il momento In cui I genitori Arrivano Dall'Inghilterra Quindi Quello che vi dicevo Anche all'inizio Della povera Meredith Che poi Di poche volte Troppo poco Si parla di lei Cioè pensate Anche La tragedia Di questi genitori Che Devono andare In un paese straniero Quindi Ora che arrivano Passa anche il tempo Già stai male Sei distrutto Completamente Anche prendere un aereo Venire in un paese straniero È durissima Punto Però posso dire Scusate Se è entrotto ancora No Però io E io questo me lo ricordavo Vedendo ancora il documentario Tutto Me lo sono Cioè ho avuto la conferma Del mio ricordo Che loro erano Veramente Sempre di una dignità Di una compostezza La sorella La mamma Anche il papà Incredibili Cioè non sono state Proprio quelle persone Che hanno Marciato Capito Sulle cose Che hanno puntato Il dito Che hanno Veramente Di una dita Incredibile Incredibile Il momento in cui Incontro i genitori Di Meredith Loro avevano già Conoscenza Della causa Violenta Della morte Perché si erano Già recati Il giorno prima All'obitorio Per il riconoscimento Della vittima Il padre di Meredith Chiedeva risposte Immediate La mamma Di Meredith Arline Era disperata Devo dire Per le cause Tragiche Della morte Di Meredith Non si davano Una spiegazione Perché sapevano Della loro figlia Che era una ragazza Molto posata Molto presente E quindi Non potevano Pensare Ad una soluzione Così Drammatica Della vita Della loro figlia Cioè Diciamo Che per la vita Che aveva Meredith Poi l'hanno dipinta Come una santa Vergine Insomma Hanno fatto un po' Questo quadro Della controposizione Tra lei e Amanda In realtà Comunque Era una ragazza Di 22 anni Come Semplicemente Come tutti La cosa che dicevano Era comunque Molto Come dicevano Lui molto presente Molto precisa Non che lei Non avesse Sicuramente anche lei Le sue scappatelle E le sue cose Che questo Non fa di una persona Una cattiva persona Esatto Era una ragazza Normalissima La cosa che appunto Suonava strano Era un omicidio Così violento Così efferato Che probabilmente Può trovare la sua soluzione Solo appunto È un omicidio Da parte di uno sconosciuto Capito Che è stata sorpresa Che è stata sorpresa Alzò il dito Come per dire Se poteva dare Tocco le labbra Se poteva darle un bacio E io Ovviamente La lasciai La lasciai fare Si può Non ne diciamo E mangio affatto Tutto Tutto Le informazioni Che ricaviamo E dall'esame Del cadavere Della povera Meredith Davano un segnale Importantissimo E che poi A mio avviso È l'elemento fondamentale Venivano rintracciate Tantissime lesioni Piccole lesioni Da coltello Che quindi riscontravano Un'attività Di costrizione Di coartazione Del soggetto È subito apparso Come certo Il fatto Che Meredith Fosse stata uccisa Con un'arma da taglio Perché La ferita Che aveva All'altezza del collo Che era Una ferita Molto grande Molto profonda Era tipica Dell'arma da taglio E aveva tra l'altro Sparse Sul corpo Altre ferite Molto più piccole Sempre da punta E da taglio Compatibili appunto Con un coltello Queste lesioni Permettevano di creare Anche un percorso temporale Di permanenza Alla soggezione Quindi La sofferenza Anche di Meredith Si è prolungata Nel tempo Lei è morta Di sanguata Anche la ferita Al collo Tutti quanti noi Abbiamo pensato Forse una condotta Preparatoria Quindi Ad una attività Più violenta Di approccio sessuale Fino alle due Lesioni fondamentali Sul collo Poi quella letale In base alle tracce Hanno trovato Poi li vedrai E anche di sangue Gli schizzi di sangue Rinvenuti sul corpo Della vittima Si poté stabilire Con certezza Che la vittima Era stata spogliata Prima di essere uccisa Gli indumenti Indossati dalla vittima Poco prima di morire Furono Ripertati tutti Quindi fu ripertata La felpa Il reggiseno Che risultava Tagliato di netto All'altezza della chiusura Con i ganci I pantaloni La borsa E tutto quello Che poteva Avere indossato Meredith Kercher Che prima di morire Era uscita Con le sue amiche E che poteva In qualche modo Parlare Di lei Di chi Avesse incontrato E di chi quindi Avesse potuto Ucciderla Meredith Frequentava Un gruppetto Di amiche inglesi Che è a Perugia Viveva In casa Con Un'americana E con due ragazze italiane E Da ragazza Di vent'anni Era poi Dedicata Anche a nuove amicizie Ad una Convivialità Importante Parlando col pubblico ministero Mi venne detto Che Sostanzialmente Le indagini Erano state Indirizzate Immediatamente Rispetto alle frequentazioni Alle conoscenze Della giovane Inglese Che è la prima cosa Che si fa Sempre Mi ricordo Che feci le indagini Anche proprio Sentì direttamente Diverse persone Soprattutto Sentì Le ragazze Le connazionali di Meredith Che dimostrarono Molta disponibilità E notavo Questa Un atteggiamento Di Di Una Una certa Ostilità Verso Amanda Cioè A queste ragazze inglesi Amanda non andava giù Lei Aveva uno stile Diverso da quello Delle altre Quello delle altre Era un po' più severo Come stile Amanda era più Anticonformista C'erano Ecco Era un po' Il suo stile Quello Perché Diciamo Che C'erano stati Degli attriti Probabilmente Tra Amanda e Meredith Degli attriti Come ci sono In tutte le case Di inquilini Magari tra di loro C'è stata una litigata In più Sappiamo bene Però Non è che gli inquilini Si ammazzano Per i piatti Che magari non lavi Insomma Sicuramente Magari A Meredith Non stava simpatica Amanda Magari viceversa Non lo so Però ecco Da lì ad arrivare a uccidere Non so Mi sembra C'è tanto in mezzo Perché Amanda era disordinata Si Diceva che lei era molto disordinata Che era un po' sporca Insomma Vabbè Litigi per questioni Casalinghe Io ricordo che parlai Con una delle inquiline Della abitazione Di Via della Pergola E lei iniziò A raccontarmi Di questa Iniziale convivenza Tra le ragazze Da una parte Le due ragazze straniere Amanda e Meredith Che proprio Per la comune provenienza Anche se da due paesi diversi Inizialmente Si erano un pochino saldate Ma proprio Nei primissimi giorni E poi emergono Due personalità Molto differenti Esatto Quindi parlavano Perché non Parli la stessa lingua Arrivi a un paese straniero È naturale Che tu stringi rapporti Con chi parla la tua stessa lingua Poi ovviamente È più semplice Si sono rese conto Di essere due persone Completamente agli antipodi E vabbè L'amicizia si è un po' Indebolita Secondo le testimonianze Raccolte dagli inquirenti Emerge Che Il rapporto Tra le due ragazze Fosse un rapporto Piuttosto C'è Andrea Un rascoso Frutto anche Di un diverso Approccio Alla quotidianità Amanda La ragazza dinamica Intraprendente Ma anche Magari caotica Poco attenta Diciamo Alla convivenza Meredith Meriditte invece Quella che In qualche maniera Si definirebbe Proprio la classica Brava ragazza Quella che Quella che vide per ultima Meriditte Che era Parton Sophie Si soffermò poi Sulla ultima sera La descrisse come del tutto normale Beh l'ultima sera Abbiamo fatto serata Quindi adesso siamo al primo Quindi il primo Che avevano festeggiare ancora Perché i due stavano a casa Probabilmente Ma erano stanchi Perché hanno fatto serata prima Si hanno fatto serata ad Halloween Adesso sembrano dell'uno Eh Ma uno stava tornando a casa Perché erano stanchi Si 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 Dico l'anno era una casa Allora della merenda A casa di una di queste ragazze Era molto No Inizialmente Molto molto tranquilla Perché era Il giorno successivo Alla festa di Halloween Tutto il gruppetto Delle ragazze inglesi Era molto stanco Perché avevano fatto Nottata Come si dice Avevano Cenato Allora della merenda A casa di una di queste ragazze Mangiando una torta E E una pizza E poi Meredith È rientrata A casa Dopodiché Dicendo che era molto stanca E che voleva andare A letto Meredith si è allontanata Da casa dell'amica Per tornare Nella villetta Di via della Pergola Ok I primi giorni Fino alla notte Fra il 5 e il 6 Noi ci muovevamo A 360 gradi La polizia Aveva concentrato Le sue attenzioni Sui due Su Sollecito E Amanda In quei giorni Gli interrogatori Dei ragazzi Erano Pressoché costanti Parlare di questa parte Mi fece parecchio Perché comunque Sono cose che sono state Anche di un certo dramma Di una certa pesantezza Quindi Rievocarle Non mi fa mai piacere Giornate in questura Infinite Io che cercavo In tutti i modi Di concentrarmi Sul fatto che devo finire la tesi Ero un po' stanco Stressato Replacement Io in realtà Ho fatto la prima testimonianza Il primo giorno Che sono andata in questura E poi basta Invece Amanda Veniva chiamato di continuo Ci sono una serie di cose Sul comportamento di Amanda E su quello che poi Lei racconterà Nelle varie versioni Che ha dato rispetto A quelle 24 ore cruciali Che non tornano La sera Del delitto Si ecco E' una cosa che io non ho capito Cioè Poi ha messo di mezzo Anche una persona Che non c'entrava Se proprio Non so perché Ha rilasciato queste dichiarazioni In continuazione Che andavano a Come si dice Metterano i casini Si no Che erano magari L'opposto anche Della dichiarazione precedente Cioè c'è stato un momento In cui Ha scritto una roba Ha firmato un foglio Poi dopo Ha ritratto La sua La sua Ritrattato Ritrattato La sua Dichiarazione Poi Probabilmente c'è stata appunto Questa Pressione della polizia Quindi le ha detto altro Un gran casino Si capisce Un gran casino E sicuramente questo Sì esatto Poi ovviamente La lingua Come si dice La lingua era diversa Quindi anche la difficoltà Sicuramente nel farsi comprendere Nel parlare Nel capire Poi anche quello che Le veniva chiesto E le dichiarazioni Sono completamente Confuse Contraddittorie Amanda racconta Di averla trascorsa Con Raffaele Sollecito A casa Del ragazzo Racconta Di aver Passato la serata Guardando un film Al computer Di aver cucinato Insieme Di aver dormito Lì Di aver trascorso La notte lì Che è In realtà Questa è la prima dichiarazione La stessa cosa Che ha sempre detto Anche Raffaele Quindi Quindi combacia Lei lavorava ogni sera Nel suo bar E si ritirava Diciamo Un orario Un pochettino Sul tardi Questa è una serata Di una di quelle Che stranamente Si erano messi Gli astri a posto Patrick Lomomba Gli aveva detto Che poteva Non andare al bar Potevamo stare tranquilli E pensare I cavoli nostri Ma avevamo Una serata liscia Abbiamo cucinato Un po' Ci avevamo visto in film Un po' Ci siamo rilassati Per cavoli nostri Chi si immaginava Tutto quello che poi Sarebbe successo Dal giorno dopo in avanti Quindi E cosa succede Sono a casa Perché Quel giorno Il Il capo di Di Amanda E tu rimanerai a casa Del bar dove lavorava Saltoriamente Le dice Guarda la serata è tranquilla Rimani a casa La risposta di Amanda Sarà poi Al centro Di altri Ci sono i messaggi Di questa roba Si Lei l'ha semplicemente scritto See you later Bye Amanda Cioè Bye bye Amanda See you later Lo sappiamo tutti Cosa voglia dire È una Ci si vede Esatto Inglese Che non vuol dire Per forza letteralmente Ci vediamo dopo No non ci credo Quindi come tante volte Succede Ovviamente La traduzione Cioè peggio di quello Che è successo Oddio allora Si sono messi d'accordo Con il caso di Di Yara Stessa cosa Oddio allora Si dovevano vedere dopo In realtà Lei cerca di spiegare Ma see you later È un'espressione inglese Ve lo dice anche Quando io parlo Con un mio amico Di San Francisco Che mi fa See you later Ma certo Ci si vede Come quando diciamo Ci si becca Cioè che ne so Sì sì Racconta Di essere poi tornata La mattina A casa sua A lavarsi La prima cosa Che dice Agli investigatori È di essere Tornata a casa La mattina Della scoperta Del cadavere Di essere entrata In un'abitazione Con la porta Spalancata Peraltro Di essersi Andata a fare Una doccia Di aver notato Sia le Tracce di sangue Pensando addirittura Dirà Al ciclo mestruale Di qualcuna Delle conquiline Segnatamente Meredith Perché con lei Divideva il bagno Questa particolarità Del sangue Non l'aveva insospettita Dice Non l'aveva spaventata Anche il fatto Che la porta Dell'abitazione Fosse aperta Aveva attribuito Questo fatto All'ipotesi Che magari Meredith Fosse uscita Anche per una commissione Rapida E che in qualche maniera Fosse Avesse lasciato Il portone aperto Il racconto di Amanda Era un racconto Veramente Quasi inverosimile Aveva dormito In casa di sollecito La mattina Del 2 Si era recata Nella sua casa Per fare la doccia Poi trova Tutto quel pandemonio Che trova Perché trova La porta aperta Le feci nel water Le tracce di sangue Nel bagno Delle ragazze anglofone Tu vedi una cosa del genere Chiama subito Chiama subito La polizia E da un lato Ci pensi Cazzo Da un lato Anche io Sarei scappata Gambella Ma scusa ma magari non ha visto La porta E aveva detto Poi Raffaele Era tornato subito da Raffaele Sì però Qua dici che ha fatto la doccia Si è fatta la doccia A quanto lei dice Scusa tu non vedi Che c'è la cacca Nel Sì Questa roba qua Non scarichi magari Un po' Un po' strana Io Vedendo la cacca lì Magari dici Boh Se hai dimenticato qualcuno Scarico Sì queste cose Ci sono delle cose Che a me non torno E comunque Vedi tutta la casa Lì c'era un casino Esatto Mirko Volevo arrivare a quello Secondo me era un po' Era un po' fatta Cioè probabilmente Ah dici Perché loro fumavano Penso regolarmente La mattina così secca Comunque ha fatto Un po' di serata Anche io ho pensato A questa cosa Che E soprattutto Se mi vengono a dire Una ragazza un po' sporca Un po' disordinata Cioè magari Magari sei pure fregata Capito Magari una che dice Vabbè Cazzo me ne frega Cioè Se già la situazione Era questa Mi sembra strano Però sì Cioè ti fai due domande No Sicuramente molto ambigua Lei E su questo non c'è dubbio Come ho detto all'inizio Su questo Non c'è Non c'è alcun dubbio E effettivamente Questa cosa qua Nella squadra mobile Nella villetta dell'orrore Per risalire All'assassino Di Meredith Kerkel Barbaramente uccisa Nella notte Tra giovedì e venerdì Nella sua camera Con un taglio alla gola Il 5 Io ricordo che si sparge la voce Che Amanda e Raffaele Erano in questura Era stato chiamato solo Raffaele E Amanda però Andò con lui Per tutto il pomeriggio Noi tentiamo di sapere qualcosa Ma gli investigatori In quel momento Erano blindatissimi Ci rendiamo conto Che però a notte tarda Non erano ancora usciti La sera del 5 Viene convocato Sollecito E Sollecito dice Io ho detto finora Un sacco di cazzate Questa è la parola Che lui usa Perché me l'ha fatte dire Amanda Il primo racconto di Raffaele È molto lineare È molto semplice Raffaele racconta Siamo stati fin dal pomeriggio A casa mia Io e Amanda E abbiamo visto un film Abbiamo cucinato e cenato E siamo stati lì Poi però In questura Durante l'interrogatorio Un altro interrogatorio Fa una piccola specificazione E dice Io sono stato tutta la notte a casa mia Però non ho elementi di certezza Per dire che Amanda Non possa essersi Nel corso della notte È svegliata Alzata È uscita dalla mia abitazione E per ipotesi Essere andata Nella sua abitazione Che è a poche decine di metri Dall'abitazione di Raffaele Sollecito Che era fatto? Cioè lui In cui l'occasione Prendere distanze da Amanda E addirittura L'accusa quasi Perché dice Io stavo a casa E lei Che non c'era È tornata a casa mia Alle una e mezza Per mezza di quando Infatti in realtà Cioè della mattina Cioè è uscita E in realtà Sono anche a rettore 10 Praticamente Sti due In realtà Non ha accusato nessuno In realtà però Poi la sentenza definitiva Dirà che Amanda Per i giudici È collocata All'interno dell'abitazione Nel momento dell'uccisione Di Meredith Ma non sulla scena Del delitto Ah quindi lei a casa Questa è nella sentenza La sentenza Ok Ok quindi Quindi probabilmente Raffaele Anche ragione Capito Su questa cosa Lei non è Dico La sentenza Non è stata La Diciamo L'assassino Sì L'esecutrice Comunque non è Non possono Non possono Collocare Sulla scena Del crimine Ma all'interno Dell'abitazione Così è stato detto Ok mazza Ragazzi è complicatissimo Sì è complicatissimo Com'è andata Sono arrivato lì Si alternavano Erano tanti Nella stanza Gente che va E che viene Erano veramente tanti Mi hanno infilato Una lampada Negli occhi E loro che stavano Alle spalle Che mi intimavano Di dire le cose Così come stavano Altrimenti Era peggio per me E io Sapevo di che cavolo Volevano parlare Mi hanno chiesto Perché dici stupidaggine Perché l'altra volta Ci hai detto una cosa Adesso ce ne dici un'altra E loro non mi facevano capire Di che giorno parlavano E mi parlavano Di quel giorno Come se ne sapessi tutto Però in realtà Io non sapevo niente E quando loro mi parlavano Di quel giorno Per me A un certo punto Nella pressione Era diventato Una cosa Astratta Metafisica Quindi Non sapevo Dove andare a parare In realtà Poi dai verbale Ho capito che Mi stavo contraddicendo Sugli spostamenti Mi hanno incalzato Su cose che davano Per certo Scontato Che io dovessi sapere Entretutto Poi si sono Intrecciate Delle situazioni Chiamiamole Tragicomiche Nel senso Che Sono andato In questura Con coltellino Serapanico Che mi portavo Sempre in giro Io da quando Avevo 13 anni Alla fine Mi hanno fatto Suo Ma perché Lui era talmente Di quelli Che è talmente Nell'aria Io ho sentito Un'altra intervista In cui diceva Talmente ingenuo Io neanche ci ho pensato Che fosse un problema Quello E poi ho pensato E poi mi sono ricordato Di mio papà Che mi diceva Ma cosa vai sempre In giro con quel coltello Cosa vai sempre In giro con quel coltello Ma lui come dice Io andavo sempre in giro Comunque si vede Che ha fatto una bella Adolescenza Bella tosta Cioè dagli occhi Bel fumelo Che tagliava Con quel coltellino Sì Sicuro Le tasche Hanno trovato il coltellino E mi sono saltati Di fronte a me Addirittura Cioè avevo delle scarpe Che la suola Di quelle scarpe Era molto simile Al disegno Delle scarpe Ma non erano quelle Non erano quelle Quindi per loro Proprio era tombola Dello scenario Era Totalmente caos Poi a un certo punto Nella mia totale incredulità Mi ritrovo Le manette ai polsi Così Carcerato All'interrogatorio Con il coltello Che poi sembra Che ha portato Il coltello Magari l'arma Del delitto All'interrogatorio Col coltello Cioè capito Lui proprio Dai titoli Sembra veramente Che sia andato via Lì si è seduto così Tenete Con questo Parliamo Allora Sì 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 Ho fatto questo Cioè Sì Sì Veramente La questura Mi accompagnano A casa mia Mi fanno camminare A piedi nudi Perché mi avevano Sequestrato le scarpe Avevano fatto Delle perquisizioni Anche molto sommarie Mi hanno sbattuto In faccia I miei fumetti Della mia collezione Dove Ah perché Attenzione Lui leggeva I manga E per loro Questo è stato Un elemento Perché nei manga Ci sono C'è violenza Effettivamente A volte Nei manga Ci sono Delle rappresentazioni Molto violente Anche Nei confronti Delle donne Anche Nei videogiochi Esatto Però Ritorniamo sempre A solito punto Nel 2007 Un po' più horror Dandomi come un pervertito E tra me e me Mi chiedevo Dove ero mio padre Perché Mi ritrovavo a soffrire Questa pena E non sapevo Che pensare Sono Amanda Knox Coinquilina Raffaele Sollecito Il suo fidanzato Ed Iyalubumba Detto Patrick I tre fermati Per il delitto Della giovane inglese Nella villetta Dell'orrore Tre bravi ragazzi Lei studentessa americana Il fidanzato Laureando in ingegneria E Patrick Titolare di un pub Nel centro storico Con un figlio Di otto mesi Protagonisti Di una storia di sesso Poi degenerata In un orrendo omicidio A crollare E a confessare È stata la migliore amica Di me Redit Amanda Caduta più volte In contraddizione Nel corso delle sue deposizioni Con gli inquirenti E a farla cedere Sono stati i suoi Tabulati telefonici Un SMS Dove si dava appuntamento Con Patrick Nella villetta No vabbè Pazzesco Prima si odiavano Poi a un certo punto Non diventate migliore amiche La migliore amica Di Meredith Amanda La uccide Solo per accentuare Ancora di più Il fatto che magari Lei poteva aver ucciso La sua migliore amica Poi È appunto Messaggio incriminato Si davano appuntamento Alla villetta Io mi immagino Che non c'è neanche scritto Io mi immagino Magari anche i poliziotti Incalzavano la pressione Di trovare L'assassino E tutto Ah tu hai mandato Questo messaggio La sera Dell'omicidio Chi è Patrick Lumumba Perché vi dovete incontrare dopo E alla fine Hanno arrestato Sto Patrick Lumumba Che non ci trova Nulla Che era il bar Il tipo Sì 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 Era il titolare del bar No follia Eh sì sì Sarebbe Non so Sarebbe C'è il tipo La mattina del 6 novembre Era molto presto Potevano essere le 7 di mattina Quando ricevetti la primissima telefonata Che mi dicevano Che c'erano stati dei fermi E mi dissero Sicuramente due Per omicidio Il terzo Forse per favoreggiamento Ovviamente tutti i giornalisti Che stavano seguendo il caso Si riversarono Davanti alla questura Classico Classico La vera novità Era Patrick Cioè l'elemento Patrick Che fino a quel momento Non Mi fa anche un po' ridere Non era stato In nessun modo Attinto Da un sospetto Non sapevamo nemmeno Se fosse un testimone Quindi non riuscimmo Nell'immediato A capire Che ruolo Patrick portato in questura Perché ci ha scritto È stato anche messo in isolamento Perché ci ha scritto See you later Sul messaggio E perché Amanda L'ha accusato Ah Capito Certo Mi dico solo per il messaggio Ma probabilmente è stata incalzata Sì certo Perché serviva un colpevole Per dire Quindi perché avevate incontrato Allora lei ha iniziato a dire Sì forse ci siamo incontrati Forse no Ha iniziato a immaginare Cioè anche lei non capiva più niente Certo Ok Potesse aver avuto Questo ragazzo Patrick Lumumba Entra Nelle indagini Come sospettato A causa delle dichiarazioni Diamantanozza Lui oltretutto Lavoratore Super rispetto Lo conoscevano in tanti Perché aveva questo locale Insomma E poi stava lavorando Vabbè comunque Amanda era stata sentita Da pochissime ore Una volta Alle 1.45 E la seconda volta Alla pubblico ministero Poco dopo Verso le 5 di mattina Particolare attenzione Che cazzo vivono Che non sanno Cosa vuol dire See you later Ma anche un interprete Cazzo Se tu vuoi chiedere un interprete Dici In urban dictionary No Sì ovvio Ovvio Iniziare quello Che poi è scaturito Nel delitto Amanda racconta Lumumba Mi ha mandato Un messaggio Dicendomi Non teniamo aperto Il pub Stasera Non devi venire Lei risponde Ci si vede dopo Ci si vede dopo In italiano significa Ci si vede fra un po' Lui è ancora convinto Quando la polizia Le guarda Guarda il cellulare Vede Lumumba La polizia Si mette in agitazione Giustamente Dice Ah ma allora Tu dovevi incontrarti Con Lumumba Buona serata È scritto A quel punto Cioè se io ti dico Ci Ah ma perché Lei ha scritto in italiano No ora non mi ricordo No questo È fatto in ricostruzione No perché Forse lei magari Ha scritto in italiano A lui E secondo Cioè probabilmente Lei traducendo in italiano Su inglese Ha scritto Ci vediamo dopo Ma in realtà Lei intendeva See you later Cioè ci si vede No in inglese Ah in inglese ha scritto Infatti No ha scritto in inglese Qui hanno tradotto così Infatti No questa è ricostruzione Per far capire a noi See you later Eh infatti sì Poi se io ti dico See you later Good night Vuol dire che Ti sto salutando Cioè Comunque Il dirigente della mobile Dottor Giacinto Profazio Mi fa chiamare Vengo svegliato Nel cuore della notte Perché c'è Era disperata Che ne so Aveva sonno Magari aveva fame Perché si trovava In questa situazione Di merda Che dice Cioè Magari piangono Anche lo staging Aveva capito Sì tu e tutto Cioè già dal Allora Partendo da lo staging Ora Ci rido sub Ma purtroppo È una cosa brutta Do gente da ridere Però dico Già da lo staging E poi dal capire Che see you later Vuol dire ci vediamo Ci si vede dopo Come dice lui Sì sì Mi sembra una persona Che è molto sul pezzo In generale Allora Io ho avuto La netta sensazione Che comunque Allora ripeto Cioè se lui è lì E io sono qua Sicuramente Ha avuto Le competenze I strumenti Per arrivare Dove è arrivato Però io ho avuto La netta sensazione Che gli piacesse Insomma Stare un po' Nel Crime business Nel centro Dico un po' Il centro di attenzione Un po' chiacchierone Un po' chiacchierone Secondo me La percezione La netta sensazione Che lei avesse Il terrore Di Lumumba Cioè Io ho avuto Lei piangeva Era un pianto Iberatore Aveva il terrore Di Lumumba Una persona che scrive Che lavora Salta il torre E dice Sei tranquilla A casa oggi Certo ci vediamo Good night Aveva il terrore Di Lumumba Vabbè Ok Netta sensazione Percezione Sono le parole Però capite che Non puoi accusare De persone Su una tua percezione Cioè ci devono essere Delle prove Ci devono essere Dei collegamenti Certo E fa questa illazione Dice io Ho incontrato Lumumba Sono tornato a casa E l'ho fatto entrare Anche perché Era noto Che lui era Invaghito Di Meredith Lumumba Secondo il racconto Di Amanda Entra nella camera Di Meredith Cioè lei Praticamente Vedi questa dichiarazione Che ti dicevo Lei a un certo punto Impazzisce Le mettono in bocca A questo padre Lumumba Dal messaggio Quindi lei Si è creata Questa fantasia Sicuramente Diciamo Incalzata Da queste persone Dicendo che Lei a un certo punto Uscita da casa Di sollecito Andata dal suo capo Con il suo capo Andata a casa sua Perché lui era Invaghito di Meredith Lui che Probabilmente Non so neanche Se l'ha mai conosciuta Meredith Era a casa Con suo figlio Cioè Lui proprio Non c'entrava niente Perché poi C'è delle prove Fattuali Del fatto che lui Non fosse No Lui non c'entrava Nulla Nulla Io stavo Nel tinello Ho sentito Che Lumumba Ha provato Avere un rapporto Con Meredith E poi ho sentito Confusamente Che è lui Che l'ha uccisa Dopodiché Lei chiese Di potersi riposare E allora Le fu data una coperta Le fu fatta fare colazione Io la salutai Mi ritirai Nell'ufficio In un ufficio E cominciai a studiarmi Gli atti Successivamente Successivamente Cosa succede Lei quindi è così Stanca Perché raga Immaginiamo Stanca Esausta Da la mattina Fino alla mattina dopo Cerchi di parlare Parla inglese Poi magari cerchi di capire L'italiano Parli una lingua Che non è tua Eccetera Le danno questo taccuino E lei probabilmente In un momento di lucidità Scrive che Non sa se quello Che sta dicendo È esatto Insomma Un po' Si Libera Metti che era pure Questa era lì Era pure fatta Sentiamo Fede Uno dei problemi più grandi È che loro sono fatti In idea E hanno cercato Tutti gli elementi Che potessero confermare La loro tesi Quello che insegnano È che bisognerebbe Usare un metodo Falsificazionista Ovvero Tu devi sottoporre La tua teoria Tutti quegli elementi Che non combaciano Se queste risultano Numerose ed importanti Dovresti abbandonare La tese E trovarne un'altra La puoi considerare Valida Solo Il momento In cui gli elementi Che la contraddicono Sono irrilevanti Esatto Certo Quindi come dice Fede Cioè loro si sono Fatti un'idea Si sono fatti questa teoria Erano convinti Di quella teoria Il problema è che Nessun elemento Combaciano Quindi hanno incominciato A creare delle prove Per dare adito A loro teoria Invece che andare A cercare un'altra strada Non è che hanno creato Le prove Hanno cercato di Di far andare tutto In quel verso Esatto E di intrecciare Le prove E gli elementi Ma non si intrecciano Dico una confessione Del genere Fatta così apposta Per cercare di arrivare In quel punto La professione è una prova Se tu Bisogna utilizzare Un metodo Falsificazionista Quindi tu devi Sottoporre la tua teoria A tutti quegli elementi Che non combaciano Quindi se questi elementi Che non combaciano La mia teoria Sono importanti E numerosi Ne abbandono E trovo un'altra Invece Se sono irrilevanti A far combaciare La mia teoria La posso considerare valida Giusto? Si In questo caso Erano numerose Ed importanti Quindi avrebbe dovuto Immaginare un'altra teoria Certo Esatto All'esecuzione Del fermo Amanda Redige Un memoriale Praticamente disse Che come In un sogno Sentiva ad un certo punto In cucina Sentiva ad un certo punto Un urlo straziante Individuava Il lumumba Il soggetto Che stava uccidendo Meredith Kercher I no di Meredith Ad alcuni giochi sessuali Avrebbero portato La situazione A degenerare Nell'omicidio Della ragazza Finita con la gola tagliata Ora gli inquirenti Sono sulle tracce Dell'arma del delitto In una conferenza stampa Hanno precisato Che Meredith Kercher È stata una vittima E basta Ed era Moralmente integerrima Nella conferenza stampa Sostanzialmente La frase Che ha fatto Il giro del mondo E che lasciò Tutti Molto stupiti Lì per lì Il caso è chiuso Un uccidio Volontario In concorso In violenza Cioè Parliamo di lumumba Ragazzi E loro hanno detto Il caso è chiuso No vabbè I fermati Sono un italiano Una donna Di nazionalità americana Un uomo Nato in Congo E quindi Questo è lo sfondo E lo scena De Felice ci disse Il caso è risolto Non ci sono assassini In libertà Li abbiamo scoperti Li abbiamo presi E sono quelli Che stanno Andando In carcere In senso A un grado superiore Come sempre No ma non ci credo Quindi la bomba Adesso Mi metto in isolamento Su da subito Perché Per il tipo di reato Avevano paura Per la mia incolumità E non ho avuto Nessun contatto Col mondo esterno Tranne dopo due settimane Avere la visita Di miei avvocati Prima Di mio padre E poi Che era rimasto a Perugia E non vedeva l'ora Di incontrarmi Vedere come stavo Eccetera I riviste erano di un'ora E poi Se ne doveva andare via Sì sì esatto E ma c'è praticamente È vero sì È vero Comunque Come in tutti questi casi Dove ti dicono La gente Vuole un colpevole Cioè la gente Deve Deve subito Avere la spiegazione Capito? E quindi Fanno di tutto Per questo Anche mediaticamente È vero? Sì sì Sono andato avanti così Per anni Sono sette anni Lui poi è stato In carcere preventivo Per quattro anni Cioè il carcere preventivo È durato quattro anni Preventivo Eh Vabbè Un isolamento comunque Avevo cominciato Ad avere i primi problemi Cognitivi Non mi rendevo conto Nemmeno se ero nudo Solo vestito Non avevo possibilità Di vedere nemmeno il sole Sorgere Ero entrato in una fase Una follia Dove avevo avuto Diversi attacchi di panico Certo depressione È provato Raffaele? No No Io ho visto Sono abbastanza tranquilla Ovviamente provato Dari condizioni Ambientali Non certo Agevoli O piacevoli O confortevoli Che cosa ha detto Del comportamento Di Amanda? È un po' Sconcertato Perché insomma Come dire Sta rivedendo un po' Le sue impressioni Su questa ragazza No perché Anche sollecito Di suo Di sua Di sua Della sua persona Dice Ma perché Amanda Ha messo di mezzo L'umumba? Cioè capito Anche lui Sare ha fatto questo E diceva Cosa c'entra questo qua? E quindi magari Inizia a farsi pensieri Su Amanda Capito Perché Ovviamente lui Sa queste cose Ma non ci può parlare Con Amanda Le sa sempre In maniera frammentata Certo Con Amanda Abbiamo potuto Mandarci Delle lettere Ovviamente Tutte le volte Che ci mandavamo Delle lettere Venivano aperte Quindi sostanzialmente Comunicavamo Ogni tanto Con una serie Di segreti Senza nessuna Particolare Enfasi E Ero intimiditi Ovviamente Per quanto riguarda La relazione Comunque L'ha andato Tutto quanto A spegnersi Perché Quale situazione lì Dove rischiamo Entrambi la vita Era passato Tutto il mondo In secondo piano E c'è anche Amanda Che tra le diverse Versioni date Si dichiara innocente A capanne Nella giornata di visite Sono andati i genitori Arrivati da Siate È la mamma di Amanda No Attualmente in carcere Ah tu dici adesso No Assolutamente sono liberi Adesso Hanno fatto 4 anni Di carcere preventivo E si è tornato a Seattle E oltretutto si occupa Di true crime Veramente? Sì E di Aiutare Magari le vittime Di errori giudiziari Eccetera I don't know why che poi non è vero perché si sa che si fa così no per far collare una parte l'altra vai da uno e dici ora che quell'altro dice che tu stai mentendo ti sta accusando e poi vai dall'altro insomma solita storia le indagini preliminari quando si nomina una persona tieni conto durante la creazione sono prove quindi vi inizi vi diventano indiziato si nomini qualcuno durante le indagini preliminari e quindi c'era certo loro sono indiziati certo la carcerazione preventiva immagino si è vero so del prete uno dei preti di perugia l'ha aiutata moltissimo al prete del carcere si è stata molto vicino non saputo l'ho letto oggi io mi sono avvicinato alla cella di amanda in maniera molto come dire in punta di piedi con tanto rispetto anche con tanta esitazione perché sapevo che non era cattolica la prima cosa che le ho detto era se la disturbava che io passassi a salutarla e invece ha accettato di buon grado la presenza probabilmente chiunque se fosse avvicinato alla cella con un sorriso c'è stato un una via di collegamento attraverso le canzoni e allora parlavamo per esempio di beatles e quindi attraverso quelle canzoni si riusciva a dialogare un po anche sul senso della vita l'approccio iniziale di essere accanto senza giudicare io non domando mai che cosa hai fatto ma ho sempre domandato di che cosa sei accusata in alcuni momenti particolarmente intensi man mano che cresceva la fiducia reciproca io le ho chiesto anche quasi una confessione tra virgolette io come prete sono assolutamente obbligato al segreto assoluto lei non ha mai confessato tra virgolette di essere colpevole sempre detto che era innocente cioè lei lo dice a sua mamma che comunque ragazzi c'è un momento in generale tua mamma a meno che non sei una fredda serial killer c'è insomma e dice il primo il primo nome che è venuto in mente cioè me lo sono immaginata ma so che è impossibile che io l'abbia visto noi abbiamo sottoposto a intercettazione telefonica ambientale la nox a un certo punto la mamma di amanda dice ma ti rendi conto che a causa delle tue dichiarazioni e lumumba è finito in carcere e lei si rende conto che ha fatto in pratica una calunnia perché in quei stessi colloqui lei dice che non c'entrava lumumba come faceva lei a sapere che era innocente perché vuol dire che lei era presente sulla scena del delitto e sa che non c'era lui cioè è la logica sembra di sentire tipo mio nonno che dice le cose non sembra di sentire mai sentito così per forza ma cosa vuol dire che mi fa volare dice innocente innocente nel senso che quello che ha detto che si è inventato poi ovvio che poteva magari essere anche stato lui ma nello non c'entra ma non c'entra perché lei non può sapere c'è no e dice con calma si ringrazio molto dio si che mi ha aiutato a tornare a casa e sono contento di tornare a casa non risponde ma perché mi hanno accusato lei succedono due colpi di scena che cambiano il quadro del fatto e delle indagini un cliente dove lavorava lumumba ricorda perfettamente che lumumba nella presunta ora del delitto era al bar ma negli stessi minuti della scarcerazione di lumumba gli investigatori scoprono che sul cuscino accanto al corpo di meridith ci sono delle impronte del cosiddetto quarto uomo quarto uomo in realtà il terzo perché lumumba non c'entra niente perché cronologicamente certo cronologicamente il quarto uomo è entrato nella storia in quei giorni stava emergendo la figura del quarto uomo che noi chiamammo quarto uomo poi in realtà non è mai stato un quarto uomo mi ricordo che stavamo andando a casa di sollecito quella mattina eravamo proprio di fronte alla porta di ingresso di sollecito quando ci arrivò qualcuno della polizia mi informò che era stato identificato con certezza l'altro uomo che è quello che ha lasciato l'impronta palmare sul cuscino ed è questo rudy hermann gede che era una polizia scientifica in casa tutto quanto e non fai gli esami sui cuscini vedi vedi che impronti non vai a vedere ma ma i risultati sono arrivati adesso stavano già facendo ci vuole tempo e questa impronta perché l'hanno riconosciuta perché lui era già nel database perché lui aveva precedenti quindi già le avevano o no aspettate le avevano preso le impronte per come si chiama il madonna e per la cittadinanza comunque credo però mi pare che in quel momento avesse già dei precedenti mi pare nel momento in cui rudy viene individuato dagli investigatori cominciano a cercarlo lui era scappato in germania non ha cellulare lui è scappato in germania il giorno dopo l'omicidio di meredith incredible ma allora ma scusate dai e quindi nessuno lo può rintracciare finché risponde ad una richiesta di contatto di uno dei suoi più cari amici già cosa fa la polizia dicono dire niente no esatto dico agli amici aiutateci scriveteli chiedete cosa è successo stai bene dove sei insomma c'è lui sparito si è scappato rudy non sa che in quel momento giacomo è nella sala delle investigazioni dove stanno facendo le investigazioni della della polizia giudiziaria tutta la sua conversazione su skype ovviamente viene registrata entrerà negli atti del processo e rudi racconta la sua versione sin da subito si 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 è ma giacomo è un amico di di rudi chiede lui aveva conosciuto meredith in un locale allo shamrock se non sbaglio e ebbero modo di scambiarsi qualche parola non dico che ci siamo frequentati no però ci siamo visti un paio di volte poi la sera di Halloween sono uscito con dei ragazzi spagnoli e dopo di che siamo andati a casa di altri ragazzi spagnoli dove lì ho parlato possiamo dire per bene questa è la sera di oggi con la meredith era durante questa festa era mascherata da vampiro penso che l'avevi vista questa foto sì 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 e il giorno dopo ci siamo dati appuntamenti che ci saremo rivisti ho capito non so se mi capisci il giorno dopo dopo la festa degli spagnoli un gruppo di questi ragazzi andò presso una discoteca del centro storico di perugia al domus dove incontrò la nico grazie edith cominciarono a parlare questo è il racconto di rudy e si mettero appuntamento per la sera successiva ok fin qui lui dice dice capisci il giorno dopo il giorno in cui è morta fin qui al telefono lui non è interrogato al telefono con giacomo skype su skype con giacomo si 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 braccia di la polizia no lui non sa niente tu stai ne sta parlando si e dice sono confuso io questa ragazza l'ho conosciuta la sera prima eccetera eccetera mi perdonami potrebbe aver trovato magari anche le impronte anche a livello sessuale magari hanno avuto qualche qualche rapporto anche se era prima adesso non so no non si sono solo se non sono niente lui dice no lui dice giorni prima ci siamo solo parlati ci siamo dati appuntamento per il giorno dopo prevederci e dopo di che ci siamo visti in questa casa di meredith avevo iniziato a parlare e io ci ho dopo aver aspettato l'arrivo di meredith entrarono in casa cominciarono a parlare del più del meno come come ragazzi ci furono degli scambi di effusioni anche tra virgolette spinte però non andarono oltre dopo di che sono andato in bagno a fare la cacca e ha potuto suonare rudi aveva bevuto un succo freddo fece una sorta di reazione diciamo e chiese di poter andare in bagno l'abitudine di rudi come tanti altri di avere sempre queste cuffie con la musica presso e quindi rudi proprio perché aveva queste cuffie non senti nulla se non quando ci fu un urlo forte che lo costrinse a uscire immediatamente al bagno e vedere che cosa che cosa stava succedendo nel corrido c'è quindi allora tu solo so che sai la verità c'è quello che alla fine però io sto seguendo pedissequamente c'è quindi lui adesso era chiuso in bagno faceva la cacca ascoltando la musica la musica si è riturgare e questo in cinque minuti dentro ha fatto tutto il macello eccetera poi è andato via spaccato le finestre ribaltato quattro andavo di qua su giù di destra e sinistra e poi se n'è andato e quindi poi le impronte dei piedi erano Merit che si è alzata a cercare di tamponarsi se finisci di sentire il racconto e ma perché così lo colleghi lo so cerca un attimo di no perché hai risposto a quello che dici te no cerca un attimo di perché lui di capire se realmente può essere senza no perché lui dice sono stato in mano in cinque minuti ho sentito un urlo lo so che c'è la verità c'è una adesso ti dirà io sono uscito visto uno col coltello e sono andato da merit e ho cercato di salvarla e quindi le impronte in giro sono anche su perché lui ha cercato di capire quanto può essere reale un racconto vedendo tutto quello che c'è in casa tutto qua vediamo sì scusami sì no però lui è questo dice sono andato da merit e ci eravamo conosciuti siamo andati appuntamente per il giorno dopo vado a casa sua diciamo sta per iniziare un rapporto comunque sono delle effusioni poi a un certo punto mi viene una congestione vado in bagno perché è un attacco di mal di pancia mi metto di ascoltare la musica e sto a cinque minuti in bagno e poi sento urlare però tu mi hai detto anche sento citofonare e urlare che lui aveva questi precedenti e che già in passato il corridoio incontrò una sagoma maschile sono uscito ho visto questo qua e questo qua ha preso un coltello e cercate di colpire e c'è anche le ferite sulla mano c'è segno e dopo di che ho visto ha visto merit che già sanguinava il taglio alla gola cioè lui aveva già visto il taglio lui aveva delle ferite alla mano auto provocate immagino per far sì che no è perché se ha ucciso lui merit le ferite ti tagli anche tu capito c'è lui difesa e si difesa lui aveva anche delle ferite c'è il che è molto sospetto quindi lui ha costruito diciamo che ha costruito simi che è vero che ha costruito un poi lui verrà condannato quindi posso dire che ha costruito questa verità per dire io sono uscito dal bagno ho trovato quest'uomo col coltello mi ha tagliato anche a me le mani infatti ho le ferite sulle mani e ho trovato che merit aveva già il taglio alla gola ok questo qua è fuggito è scappato è uscito dalla porta capito di là io ho cercato di soccorrere ho preso un bagno asciugamano un asciugamano ho cercato di poi cosa successe successe che sentì un rumore improvviso e si spaventò un bagno e prese un asciugamano si spaventò e scappò via e questo è il motivo per cui le impronte di rudy sono dappertutto su tutta la scena del delitto sono tutte le impronte di questo è dovuto perché la la cerco di tamponare è rudy herman gede 21 n di origine ivoriana a perugia da quando aveva cinque anni sarebbe dunque lui l'assassino le cui tracce di dna sono state trovate sul corpo della vittima e le cui impronte insanguinate sono sul cuscino di meridith ma la versione dei fatti di rudy è diversa e si discolpa quella sera avrebbe solo baciato meridith e poi si sarebbe chiuso in bagno rudy dice di aver sentito le urla e uscendo racconta di aver visto un italiano che non conosceva a coltellare meridith a quel punto l'avrebbe soccorsa quindi ci sono anche tracce di di lui nella vagina vuol dire che lui l'ha ammazzata ed è avuto un rapporto c'è questo mi stai dicendo non per forza di aver rapporto per avere il dna penso che anche solo con le mani lo puoi lasciare ok aiuto però da subito apparì abbastanza incredibile che dopo un ingresso diciamo legittimo perché lui raccontò di aver fissato un appuntamento quindi con meridith di essersi allontanato per andare in bagno e che proprio in in quei minuti mentre lui ascoltava musica si era introdotto qualcuno in casa che nel frattempo aveva ucciso la povera meridith beh per rudy ghede a parte le impronte digitali sul cuscino venne trovato il suo dna nella vagina di meridith vennero rinvenute delle feci dalle quali però non si può estrarre il dna venne invece estratto il suo dna dalla carta igienica del bagno la traccia più significativa che inchiodava rudy ghede sulla scena del delitto è il suo dna trovato sul polso della felpa indossata da meridith traccia che praticamente faceva ritenere che lui l'avesse tenuta ferma mentre qualcun altro commetteva l'omicidio probabilmente probabilmente si pensa che forse c'è un complice che non è mai stato trovato dicono anche questo stai scherzando e non sai ma perché lo chiamino baronero non questo fa questo sempre questa roba l'evento non me lo ricordo deve fare diventare tipo dei personaggi di fama comunque nostra cinesca poi vedrai che lui non è andato al cesso e poi l'ammazzato cioè sì in realtà sì in senso temporale perché probabilmente meridith ha sorpreso rudy già a casa c'è perché lui ha fatto queste frazione c'è già spaccato la finestra si si aveva già spaccato la finestra aveva già fatto comunque un po di disordine in camera della delinquilina in camera di meridith e aveva usufruito anche del bagno probabilmente probabilmente lui ha finito l'è rientrata sì sì il ritrovamento dell'arma del delitto non è stato particolarmente agevole e però durante una perquisizione a casa di sollecito uno dei poliziotti che stava facendo la perquisizione trovò questo coltello che poi ritennero fosse l'arma del delitto nel cassetto della cucina dedicato alle posate a sollecito sia l'obb di no raga un polizotto va lì vede questo coltello che anche noi abbiamo qui in cucina nel senso un normale coltello sì ovviamente quelli un po più grandi e dice questo potrebbe essere lui l'arma del delitto non è vero invece poi scoprirà che non c'era niente sopra non è vero sì 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 l'arma del delitto non è mai stata trovata mai ho capito ma allora dei matti e quindi hanno fatto le foto a un coltello quella foto che vediamo prima coltello grosso ce l'ha scritto se era quello a caso come se qua in casa è uguale a tipo quello che abbiamo noi di là è lo stesso coltello e poi non solo esatto non solo non poteva combaciare con le ferite che aveva meridi non era quell'arma del delitto cioè così è entrato un poliziotto a casa e ha fatto vabbè di raffaele quindi continuavano perché continuavano le perquisizioni anche a casa sua quindi questo cristiano lì dentro in carcere continuava arrivare queste notizie di coltelli di coltello cioè comunque ti si sdoppia il cervello a un certo punto madonna secondo me inizia a pensare che l'hai fatto davvero sì cioè nel senso a volte succede così certo cioè sembra però vabbè no però loro comunque si sono sempre dichiarati innocenti però dico poi sembra che vivi una realtà diversa o che comunque qualcuno ti stia facendo qualcosa sì o che tutti cercano di incastrarti in qualche modo eh sì esatto che ci sono sotterfuso immagini originari quindi qua del centro e fanno questo coltello è molto importante perché la polizia scientifica rinvenne due tracce una sulla lama dalla quale estrasse il dna di meredith e una sul manico del coltello ma sul punto in cui il manico si congiunge alla lama che venne a contribuita amanda nox questa cosa di meredith allora l'impronta di meredith cioè questo dna di meredith non l'ho capito onestamente però il dna di amanda grazie si tagli un coltello a casa di raffaele esatto esattamente sembra scusa quindi ho trovato questa cosa di meredith chi è che sa di più su sta roba no che impronta hanno trovato il dna sulla lama eh il dna ma com'è possibile scusa meredith è andato a casa di raffaele qualche volta non lo ricordo non credo cioè allora scusate vabbè andiamo avanti vediamo cosa dicono vediamo cosa dicono il punto finale del manico era significativo per ritenere che di quel coltello se ne fosse fatto un uso improprio perché per tagliare un pezzo di pane o un pezzo di carne quella parte di impugnatura non poteva essere interessata il fermo è vuol dire che che tu stai dando un colpo dal dal di dietro verso l'avanti cioè un colpo diciamo offensivo presentare questa traccia come sicura certa del sangue di meredith sulla lama del coltello mi ha fatto crullare il mondo addosso come facevo io a capire come ci è finito cioè non potevo mai nella vita francamente nessuno si immaginava di trovare l'arma del delitto a casa di sollecito attorno al coltello si è tanto favoleggiato perché proprio quel coltello perché non un altro è stato preso è possibile il momento in cui amanda e no però non è andata a avere di casa non si capiva il dna era solo di amanda vero e infatti ma perché avevano perché avevano sbagliato lo avevano detto ma non erano certi c'è perché lo avevano detto allora mirco mi sfugge questo passaggio che sicuramente oggi ho sentito ma non mi ricordo perché poi effettivamente le ferite non potevano combaciare con quel coltello quindi è una cosa che proprio non torna poi faccio la controperizia ah ok come rispetto alla conservazione di quel reperto è una vicenda che si è portata avanti per tutti i gradi di giudizio fino alla fine questo coltello venne repertato con mezzi di fortuna mezzi di fortuna costituiti da una scatola di cartone perché eravamo vicini a natale era una scatola contenente un'agenda di quelle che le banche regalano a natale stai scherzando ma state scherzando ma perché tu fai una prequisizione e non ti porti dietro no non ci credo con la schedina la busta dove metti i documenti vabbè ma allora ci potrebbe essere anche il dna della cartogheria scusami ma perdonami vabbè ma raga è uno scherzo un cartone il cartone ah è questo famoso gancetto all'inizio si dicevano cose di una gravità forte nel senso che si parlava del coltello di cucina di casa mia pieno di sangue si parlava del mio dna solo un gancetto di reggiseno c'è robe su cui non c'era da scherzare ma erano quegli elementi dal quale non potevo uscire in questo caso è evidente l'errore umano ma no certo grazie a Dio non è sempre così altrimenti in un mondo in cui tutti i casi non vengono risolti e vengono sbagliati sennò tutti in galera sarebbero tutti innocenti qua è palese c'è raga vieni da ridere ma anche se sei un po' di ziotto lo sai tieni fermo il coltello e prendi una busta ma ti viene naturale cazzo vabbè ma all'epoca era molto peggio era proprio sempre così eh no e poi poca esperienza in casi del genere capisci in casi così ferati meno male eh perché vuol dire che non ce ne sono così cioè non ne capitano così tanti però... però vedi il famoso gancetto eh ve lo ricordate all'inizio il reggiatto sulla quale erano cuciti i gancetti del reggiseno fu repertato solo settimane dopo su quei gancetti è stato ritrovato il DNA e l'aplotipo Y di Raffaele Sollecito il gancetto di reggiseno era stato lasciato sul logo del delitto per più di 46 giorni era stato trovato già il primo giorno eh quello che mi raccontavo lì era stato fotografato stranamente non era stato repertato mai preso nonostante ci vedeva che era un gancetto che era stato trazionato quindi si era deformato c'era una parte tagliata quindi era un reperto di tutto interesse ad essere analizzato è finito lì di fianco a quel tappeto non si sa come dopo 47 giorni l'hanno preso vabbè ma dai c'è vabbè poi dopo 46 giorni sono tornati l'hanno trovato in un'altra parte della stanza sopra poi l'hanno trovato 5 profili di cui 3 sconosciuti uno era il profilo di Meredith chiaramente e l'altro hanno attribuito il profilo a me ma in realtà c'era solo la mia Y Per sollecito le tracce dalle quali secondo noi traspariva la sua partecipazione al delitto erano il suo DNA sul gancetto del reggiseno e l'impronta di sangue sul tappetino Per quanto riguarda Amanda Knox vabbè a parte le sue dichiarazioni il suo comportamento assolutamente inspiegabile venne trovato il DNA misto Knox Meredith in tutte le tracce nel bagno e soprattutto il suo DNA sull'impugnatura del coltello Il quadro dopo la fine della repertazione era assolutamente tranquillizzante circa la presenza come autori sul logo del delitto di sollecito Amanda Knox e Rudy Guedet Tutti si sono proclamati estranei all'omicidio estraneità alla quale non crede il magistrato per il quale i due fidanzatini hanno fornito dichiarazioni palesemente false agli inquirenti un insieme impressionante di contraddizione e di assurdità nel tentativo di dare una spiegazione dei fatti che li potesse scagionare C'era tantissima aspettativa per la prima udienza del processo e per la prima volta probabilmente nel tribunale di Perugia hanno dovuto istituire una sorta di ufficio stampa per riuscire a accreditare tutte le testate che ne facevano richieste al primo grado se non erro furono 90 appena entravano Amanda e Raffaele c'era un muro di televisioni e di fotografi che correvano a cercare di carpire uno sguardo tra i due e... Amanda era incredibilmente disinvolta poi era molto fotogenica bucava lo schermo e tutti quanti erano affascinati dalla figura di questa ragazzina Amanda Knox, born July 9, 1987 in Seattle, Washington Perché la ragazza non vuole anche essere carina No, no In questa vicenda c'è una figura cardine che è quella di Amanda su cui si è costruito tantissimo un personaggio noir Sul palco scenico mondiale io non ero un'imputata innocente fino a prova contraria Dall'altra parte avevamo un ragazzo alle prime esperienze sentimentali e venivano rappresentati gli amanti diabolici Rudy Gede in realtà parla già di Amanda nella fase abbastanza precoce dell'inchiesta Oltre a capire inconosciuto a livello vocale l'Amanda Knox ha visto la sua sagoma quello che viene raccontato ancora oggi di me da parte delle media è sempre molto attalenante spesso lascia un sacco di ombre Rudy non è sicuramente l'autore materiale dell'omicidio perché sull'arma del delitto non c'è nessuna traccia di lui c'è una follia una follia finita la prima parte sì Rudy da quanto ho capito solo in un secondo tempo dirà che che ha visto Amanda cioè che ha sentito la sua voce c'è ho capito ma non si capisce un cazzo è veramente complicato c'è neanche ricostruito dopo tanti anni sì 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 c'è le allora perché il DNA di sollecito era sul c'è anche se fosse stato per terra 46 giorni beh certo che l'hanno detto gli avvocati ovvio no io mi chiedo anche se fosse stato 46 giorni nella stanza di Mary di questo gancetto perché usavano i guanti sporchi ah e quindi passavano probabilmente sì cioè c'è proprio una foto in cui c'è un guanto sporco che tiene in mano della polizia e quindi ha contaminato a un certo punto probabilmente sì la prova del DNA è praticamente inutile e poi dire c'è il DNA misto di Nox e Mary di Timbana che cazzo vuol dire allora dirà c'è il DNA misto del tuo è molto sì sì è molto complicato raga infatti io per quello ho sentito un sacco di video e di di contributi per farmi un quadro a 360 gradi infatti vedete che qua vi ho aggiunto io delle cose perché molto grande perché un documentario solo so anche magari riportare tutto a meno che non si facciano otto puntate forse ma non basta neanche poi bisognerebbe leggere gli atti le dichiarazioni e milioni di altre cose però però è molto complicato e più si va avanti poi si complica ancora di più quindi vedremo nella seconda parte arrivando poi al processo sì sì esatto dico per tutte queste dichiarazioni eh incarcerazioni lumumba quello poi ed è hanno complicato tutto seconda parte mercoledì prossimo adesso eh seconda parte vedremo arriveremo faremo anche il processo immagino e ed è per quello che all'inizio vi dicevo c'è una verità processuale però comunque secondo me uno si può fare la propria idea però effettivamente poi magari dici eh però però l'hai detto così poi ci ripensi poi pensa sollecito eh non so è veramente cioè sicuro la verità per com'è non non si sa eh non si sa ma perché non si sa non si sa neanche se Rudy è stato lui da solo se ha avuto un complice che non si è mai trovato ma questo Gede dov'è adesso? l'unica cosa vera l'unica cosa che si sa raga è che ci sono stati una miriade di errori eh che eh comunque hanno compromesso le indagini ah è libero Gede? si ha scontato la pena ah quindi 16 anni 16 anni è andato comunque lui è l'unico che poi è stato condannato in maniera definitiva niente è chiaro esatto eh e no folle e quindi rimane non so ti lascio proprio la mano in bocca perché anche le famiglie poi dico ovviamente la famiglia di Meredith eh dici non ha avuto giustizia no? esatto e e quindi sì proprio un caso un caso veramente particolare questo qua studentessa inglese di 22 anni barbaramente uccisa nella sua camera da letto poi a un certo punto nella mia totale incredulità mi ritrovo con le manette ai polsi è subito apparso come certo il fatto che Meredith fosse stata uccisa con un'arma da taglio Meredith conosceva il suo assassino all'inizio si parlava del coltello di cucina di casa mia pieno di sangue si parlava del mio DNA sull'ungancetto del reggiseno sul cuscino accanto al corpo di Meredith ci sono delle impronte del cosiddetto quarto uomo la ragazza che è stata uccisa l'ho conosciuta la sera prima per quanto riguarda Amanda Knox venne trovato il suo DNA sull'impugnatura del coltello c'era tantissima aspettativa per la prima audienza del processo Amanda era incredibilmente disinvolta ok quindi il processo è ragione da Marti seconda parte ok l'amanda nox born july 9 1987 seattle washington ok l'amanda nox delle prime fasi dell'inchiesta è una ragazza molto diversa dall'amanda nox che abbiamo visto al processo la ragazza che vediamo nei primi momenti nei filmati immediatamente dopo i fatti che si sbaciucchia con raffaele sollecito fuori dalla scena del crimine non è l'amanda nox che noi vedremo al processo che invece è molto più strutturata molto più battagliera molto più precisa molto più lucida in questa vicenda c'è una figura cardine che quella di amanda loro due si erano lasciati no sono lasciati sono lasciati ok comunque no Sofi grande che anche tu che sulle criminologie al terzo anno ah bello quindi anche tu ci guardano a mano bellissimo quante ce ne sono? mazza su cui si è costruito tantissimo un personaggio noir e che ha tratto tantissimo l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale amanda nel giro di poco tempo anche grazie alla stampa soprattutto alla stampa inglese diventa Foxy Noxy Foxy Noxy in realtà era il suo nomignolo sul suo blog dell'epoca e c'erano una serie di fotografie complice anche la bellezza di questa ragazza che era indiscutibile indubbiamente l'ha portata a essere considerata appunto questo angelo del male sostanzialmente in grado di sedurre chiunque le capitasse a tiro Foxy Noxy la caratterizzazione dei due soggetti fu molto forte i media avevano portato ad individuare la Nox come una ragazza dedita a frequentazioni con ragazzi all'uso di stupefacente dall'altra parte avevamo un ragazzo alle prime esperienze sentimentali completamente soggiogato ma in modo benevolo a questa ragazza Sollecito diventa una sorta di suo appendice inerde cioè una sorta di burattino completamente nelle sue mani questa cosa che sollecito a un certo punto perdeva il cristo tale grazie Mr. Yu grazie mille per il prime grazie grandi raga mi ricordo che a un certo punto diventa veramente inutile in senso a direvo di carisma cioè si perde cioè si parla sempre solo di lei e lei sembra quella che comanda quella che è lui che va dietro sì ma io ho capito che forse lui le scrivesse anche all'inizio in carcere cioè si mandavano lettere per recuperare cioè recuperare comunque per mantenere contatti ma quanto ho capito lei non ha sicuramente anche sotto consiglio dei suoi avvocati difensori di non continuare questa relazione ok però come dicevo una volta scorsa il fatto che lei magari fosse così esuberante c'è questo carattere che sicuramente stona rispetto alla situazione sì perché non implica del processo comunque che sia in un tribunale come dicevo l'altra volta probabilmente sono dato dal fatto che lei effettivamente magari è una ragazza un po' immatura no? però questo ripeto non vuol dire che tu sia un assassino non vuol dire che tu sia un killer capito? mentre lui cosa vuol dire? era tutto composto e così cioè erano effettivamente agli antipodi no? però questo non vuol dire che appunto entrambi siano assassini o uno o l'altra certo e quindi vediamo un po' così viene descritto anche dalla procura ricordo l'avvocato difensore di sollecito avvocato buongiorno che appunto definì la nox per come venne dipinta non perché la ritenesse tale una sorta di venere impellicciata no? quindi questa figura femminile potente in grado di veicolare gli altri verso i suoi bisogni di manipolarli di controllarli la storia di sesso droga ed altro è venuta fuori praticamente subito poi però era successo un altro fatto che aveva gettato cattiva luce sul il rapporto tra questi due ragazzi è che il giorno dopo scoperto il brutale assassino di meredith kercher loro andarono a comprare della biancheria di carattere sexy e le telecamere del negozio le hanno ripresi mentre giravano intorno a questi indumenti intimi e scherzavano e ridevano e praticamente il giorno prima avevano trovato una loro coetanea sgozzata intorno a lei ma allora il fatto della biancheria sexy non capisco in quale modo si possa definire sexy cioè cos'è sexy innanzitutto cioè cosa vuol dire ma poi se mi servono delle mutande dove devo andare cioè il fatto probabilmente ripeto vabbè però un giorno dopo se vai a prenderti delle mutande non è che sei un serial killer io non capisco che tu quando vedi si stona ma cosa fai non esci più no dico stona rispetto magari al contesto ma ripeto questo non vuol dire cioè magari hanno veramente un po' peccato di empatia cioè probabilmente non erano persone così empatiche perché ragazzi cioè non è che la Nox dimostri questa grande empatia e sensibilità in generale dico ma anche in futuro anche negli ultimi insomma quello che si vede di lei ma ripeto non vuol dire che è vero Mirko non me lo ricordavo cioè mi ricordo che la Dursa ai tempi faceva poi il pomeriggio cioè si parlava solo di questo eh solo di queste robe ma poi lei che l'avevano chiesto anche in prigione di compilare una lista delle persone con cui era stata letto e aveva tipo scritto sette nomi e i titoli di giornali che titolavano Amanda Nox varie cose no c'è che voglio dire è stata letta con sette persone a 26 anni nel senso comunque poi chi dice che ci sia un numero no limite o boh vabbè nel 2009 lei questo aspetto di diciamo molto sessualizzato ma associato a un potere femminile anche se malevolo chiaramente un po' come la strega no in grado di ammaliare la circe in grado di ammaliare è un po' anche un'altra cosa che le è pesata moltissimo dal puntista giudiziario perché lei di fatto venne ritenuta quella che aveva organizzato che architettato questo piano criminale fondamentalmente con l'obiettivo di punire Meredith perché era in competizione con Meredith Fox e Nox quindi hanno fatto Fox e Nox questo personaggio che si è costruito per spiegare le motivazioni di questa accusa cioè? cioè che io sono una pazza assassina bugiarda tantissime altre parole che posso dire ma sono parolacce quindi e venivano rappresentati come gli amanti diabolici lei come una manipolatrice, un'attrice, una che si dava il sesso sfrenato così di questo genere e a me come un succube manipolato freddo calcolatore che se ne stava nell'angolo e aveva la presunzione di prendere il cuo tutti così Raffaele sembrava che non sapesse dove si trovasse era veramente spaisato e confuso anche un po' improbabile in alcune sue esternazioni quando faceva le dichiarazioni spontanee era un ragazzo molto introverso e certamente una situazione così esorbitante, così abnorme rispetto a quello che poteva attendersi un ragazzo che da 5-6 giorni frequentava la Nox indubbiamente può aver generato in lui una situazione di comprensibile confusione insomma scusatemi per le pause e per i fogli i miei friend manciano perché se sono state le stazioni di moce e queste quindi niente quindi prendere un secolo durante tutti i processi ho fatto diverse dichiarazioni spontanee perché ho notato un totale disinteresse da parte dell'accusa di chiamarmi come testimone mi aspettavo che essenzialmente mi chiedevano una mia diretta testimonianza Volevo fare soltanto alcune questioni che ci sottopone la nostra attenzione in realtà così non è stato la Nox si sottopose sicuramente per svariato tempo all'esame della corte d'assise di primo grado io ho ricevuto la chiamata ho ricevuto l'SMS e ero così contenta che volevo passare tutta la notte soltanto con Raffaele quindi ho spento per non essere chiamata richiamata tutti quanti noi gli abbiamo potuto fare delle domande che si incentrarono soprattutto su che cosa era successo di come aveva passato quella famosa notte abbiamo più volte analizzato il testo del messaggio che è anche agli atti ci vediamo dopo esattamente nella tua mente il see you later che è la traduzione inglese si può tradurre come ciao allora non è nemmeno ci vediamo dopo ci vediamo più tardi che letteralmente è see you later che in inglese è un modo per dire ciao si esatto c'era il cringe totale grande crissi grazie per il prime grazie mille grazie cosa quando ci fermiamo un attimo ah no ti hai fermato sto passo sì comunque raga cioè io voglio dire ma voi immaginate allora qua erano giovanissimi tu da un momento all'altro ti ritrovi comunque immerse in questa cosa e hanno avuto due reazioni diverse cioè lei probabilmente ha esasperato magari già esasperato il carattere che aveva magari sorrideva figuratevi se non si sentiva comunque in ansia agitata pure lei cioè non è che perché si sorridi e vuol dire finalmente ciao poi immaginati fare le posizioni in una lingua che non è la tua cioè già lei parla comunque abbastanza anzi brava si riesce a esprimere abbastanza bene ma vedi che già magari ha detto ah mi ha chiamato no volevo dire messaggio cioè è difficile no certo e lui magari ha agito nell'altro modo cioè voleva magari tenere lui si vede che uno che magari vuole tenere più le cose sotto controllo aveva i fogli magari segnava le cose però non riusciva a starci dietro era una situazione grandissima per tutti figuriamoci se sei così giovane Mirko lì c'erano delle robe tosta anche quello veramente tosta anche quello perché lì proprio i calcinacci le robe boh adesso non mi schiamo le robe però secondo me sono molto diversi sono molto diversi assolutamente sì ovviamente pieni di errori tutti tutti e due però e comunque vediamo vediamo un po come come continua il processo Amanda Knox nel rendere delle dichiarazioni inizialmente come persone informate sui fatti tira in ballo patrick lumumba ponendosi lei stessa sulla scena del crimine e facendo riferimento alla condotta di lumumba come autore del delitto dopo aver realizzato consumato una violenza sessuale in realtà sarà sempre un argomento molto ribattuto perché non ci sono mai state tracce violente di un possibile stupro la prima che parlò di violenza sessuale fu Amanda quando ancora non c'era stata un'autopsia che avesse avvallato l'ipotesi di un'implicazione sessuale nel delitto ecco patrick pensi che ci sia un pentimento da parte di Amanda per quello che ti è stato fatto penso di no lei ho ufficialmente così non mi ha mai chiesto scusa la prima giustificazione che fu data a questa indicazione di patrick lumumba fu quella di dire doveva dare alla polizia che stava facendo l'interrogatorio doveva dare un nome e quindi per uscire da questa pressione psicologica forte il primo nome che gli viene in mente è patrick lumumba Amanda però sosterrà anche di essere stata picchiata e quindi racconta una storia che in qualche maniera poteva essere la soluzione a questa situazione di estrema difficoltà che stava vivendo lei ha parlato di suggerimenti, suggerimenti, lei ha parlato di pressione, ha parlato di essere stata picchiata nel giro delle persone che erano attorno a me c'era un uomo che aveva questo telefonino che proprio metteva questo telefonino nella mia faccia dicendo guarda questo telefonino ma chi è questo ma che volevi incontrare lui loro si spostavano erano proprio attorno di me, io non ho visto chi mi ha dato la prima scappellata perché era indietro poi mi sono girata ho visto la donna e poi un'altra alla mia testa lì c'era una grande agitazione quella sera alla squadra mobile sono intervenuti probabilmente parecchi elementi della della polizia e può darsi anche che nella concitazione agitazione sia stata urtata alle spalle aspetta allora 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 e Mari se non l'hai visto la prima parte è un po' difficile capire adesso la seconda praticamente lei fece questa deposizione subito una delle sere dopo forse la seconda sera si quando diciamo era stata messa un po' sotto pressione le aveva dato questo nome io non sapevo del suo capo che in realtà non c'entrava nulla era proprio innocente no che mi fa ridere lo che fa c'era dell'agitazione magari nella concitazione nell'attimo può essere che qualcuno l'abbia urtata no ma lui è incredibile mi sembrano quelle frasi del tipo capisci per nascondere chiaramente la verità si che ci gira intorno vabbè lui mi sembra veramente che si arrampica sugli specchi poi magari non è neanche successo allora questo è il punto di vista di Amanda poi bisogna chiedere a io lei dice quello che dice lei bisogna chiedere ai poliziotti però mi fa ridere come lo dice sembra che si ingarbugli comunque scusami Fede ci ha scritto una cosa le deposizioni in italiano sono sbagliatissime in qualsiasi caso anche quando un test conosce in qualche modo parare la lingua bisognerebbe fare sempre uso dell'interprete è sicuramente in parte più macchinoso ma garantisce un processo eco e corretto visto che esistono professionisti che studiano proprio per ricoprire il ruolo dell'interprete in tribunale e sono d'accordissimo cioè sono d'accordissimo che sia sbagliata questa cosa perché vedi come ti dicevo certo basta che poi tu dici messaggio al posto di chiamata e poi poi dovrebbe anche essere una prova contro di te capito quindi vero c'è pure l'interprete di fianco come dici tu uno studia una vita per aiutare queste persone e lavorare in questo campo e poi no facciamola depositare in italiano che non è la sua lingua comunque dici che possono essere successi a casa mia con Patrick ebbene qui c'è un ragionamento importante questa scelta viene confermata con il memoriale dove viceversa in quel momento la nox non aveva nessun genere di pressione quindi poteva rettificare la propria dichiarazione questo non avviene mai perché ha confermato liberamente spontaneamente queste queste circostanze queste dichiarazioni perché non era sicura quale fosse la mia immaginazione qual era la realtà e quindi volevo dire che era confusa nella ricostruzione fantasiosa di amanda nox ci sono delle coincidenze che fanno pensare perché va a calunniare un soggetto di colore che poi coinciderà con rudy ghede parla di una violenza sessuale quando ancora gli elementi dell'approccio sessuale non erano agli atti si pone sulla scena del crimine quindi tutta la rappresentazione che fornisce sicuramente pone delle coincidenze importanti le porto avanti la sua tesi portando elementi di assoluta non verosimiglianza rispetto alla vita comune come se quella fosse la verità che lei doveva affidare a quel processo se avessi avuto quell'atteggiamento così chiaro netto e preciso anche durante le prime fasi dell'inchiesta probabilmente non sarebbe arrivato a fare delle affermazioni invece contrassegnate da grande confusione ma non solo durante questo interrogatorio che venne ritenuto molto controverso è quello che lei fa anche dopo l'interrogatorio quando ribadisce sostanzialmente quella versione nel memoriale che lei redige da sola effettivamente si fa un po fatica a superare alcune cose che scrive sono delle circostanze in quel racconto che obiettivamente sono davvero difficili da collocare in una opera di pura fantasia e di suggestione il processo di primo grado sarà caratterizzato da una istruttoria dibattimentale lunghissima era imponente il materiale che era stato depositato dal pubblico ministero al termine delle indagini i rilievi scientifici ad esempio erano importanti tutte le fasi processuali per l'omicidio di meridith kercher si sono basate principalmente sulla prova scientifica che però era stata raccolta in maniera tale da dare scusate quella la scatola principalmente sulla prova scientifica che però era stata raccolta in cioè ragazzi questa che sarebbe stata l'arma l'arma del delitto è stata impacchettata in una scatola di cartone cioè capite non è possibile fare un processo in questo modo cioè fa ridere è ovvio che se sussistono tutti questi errori non sapevo mai la verità e non potremmo dire loro sono innocenti quello colpevole quello innocente loro sono colpevoli cioè come fai a dirlo ci sono troppi errori non non è non è possibile magari magari uno è veramente colpevole cioè come fai come fai a dirlo come fai a saperlo ci sono senti ormai è tutto imbrattato non c'è un evidenza scientifica e logica purtroppo no sì sì una follia veramente troppi troppi errori ciao sarà cinesca tranquilla stiamo facendo stanno vedendo la seconda prova seconda parte di meredith kercher siamo arrivati al processo recap tosto c'è all'inizio della live c'è una parte di questo mini recapino che fanno loro in maniera tale da dare ampia possibilità alla difesa di controbattere le acquisizioni scientifiche che aveva fatto la polizia per conto della pubblica accusa le due prove regine e più dibattute poi sono il gancetto il coltello la difesa attaccato molto le indagini questa prova che viene considerata la cosiddetta prova regina dell'accusa il dna sul reggiseno è una prova che non si può considerare affatto regina perché ci sono una serie di incertezze e il nostro consulente tecnico aveva rilevato una serie di problemi a livello di procedura io ritengo che gancetto e coltello fossero delle prove solide ma con la solidità degli altri indizi il tema degli alibi falliti è un tema che a me sta molto a cuore l'alibi fallito vuol dire il rappresentare una certa realtà che poi è stata dimostrata diversa ma l'elemento dell'alibi fallito è stato accertato attraverso due tipi di analisi e verifiche quella sui cellulari di amanda e di sollecito e quello sull'analisi sul computer utilizzato da raffaele sollecito i due ragazzi dissero che avevano passato l'intera serata in casa di sollecito e avevano dormito poi fino a tardi la mattina dopo allora abbiamo letto un po sul suo computer ho guardato l'email e abbiamo ascoltato un po di musica e poi più tardi abbiamo guardato il film abbiamo mangiato e poi lui puliva i piatti ma come detto non guardo spesso l'orologio quindi al torno a dieci così poi abbiamo fumato un spinello insieme vi siete addormentati insieme si prima abbiamo fatto l'amore e poi ci siamo addormentati le risultanze dell'esame dei computer e dei telefoni dicevano che interazione umana sul computer c'era stata solo fino a poco dopo le 21 quindi nulla toglieva che loro poco dopo le 21 potessero essere usciti per uccidere in quanto l'ora della morte di meredith è stata collocata intorno alle 22 22 15 entrambi cellulari vengono spenti intorno alle otto e mezza nove della sera cosa assolutamente anomala in quanto i loro telefoni producevano traffico telefonico fino a tarda notte solitamente perché dice solitamente si stavano con i telefoni accesi fino alle 4 del mattino e quindi anche quel giorno dovevano tenere accesi fino alle 4 del mattino però se ci pensi allora non voglio fare l'avvocato di nessuno è come se se tu è un'abitudine comunque strano che si è una coincidenza è una coincidenza strana che il giorno in cui tu decidi spegne il telefono alle 9 muore una persona ce n'è che hai spento mercoledì non è successo niente ma per quello che poi possono essere coincidenze sono delle coincidenze ma sono delle evidenze che tu ci fanno pensare sicuramente ci pensi cazzo proprio il giorno in cui ho spento il telefono perché poi è proprio nelle abitudini no che a volte si vanno a ricercare le prove in questi processi esatto e poi non sono non sono prove cioè sono degli indizi ma non sono prove valide nel senso non possono essere probabilmente non so cioè non è che poi da questo vi puoi condannare però certamente ti fa pensare sì perché magari ci magari davvero lei non doveva lavorare ha detto vabbè ci spegniamo il telefono stiamo una serata ci concentriamo solo su di noi poi ragazzi parliamo comunque del 2009 nel 2009 non c'erano i telefoni che ci sono adesso veniva usato nel 2009 il telefono veniva usato solo per chiamare mandare sms ma non ci stavi il telefono cioè lo buttavi sul anche questo cioè anche questo devi capire cioè non è che noi se spegniamo il telefono oggi perché il telefono è una fonte di distrazione al di là del telefono però non lo spegni mai lo metti in modalità aerea non disturbare lì perché dovresti spegnere il telefono è una fonte di distrazione cioè non lo so tu lo butti lì ma tanto non lo non lo useresti comunque no ma nel sì tu dici c'era il silenzioso raga ma al di là anche oggi silenzioso un quanto un cazzo tu sei sempre malato che devi andare a cercare vedere la notifica no dici una volta no sì sì dico che lo potevi mettere in silenzioso e comunque ti fa pensare tutto qua e non sto dicendo che ora abbiamo fatto qualcosa certo bisogna pensare comunque bisogna farsi le domande perché cioè partiamo dalla base che ci sono stati degli errori enormi indiscutibili in queste indagini che quindi secondo me comunque la verità è compromessa il processo è compromesso in generale poi però non è che si possono fare completamente prendere io non sono una che sapete prende la corrente innocentista per forza io credo le persone fanno un'indagine però ovviamente giusto farsi le domande da ogni parte no e non lo so perché vedi qua magari ci sono certe cose che ti fanno storcere il naso da una parte dall'altra però vedi delle prove dici ma com'è possibile ma non è possibile incriminarli per questo con gli errori che avete fatto anche nel nell'esaminare le prove tutto no poi certo uno dice perché avrebbe dovuto spegnerli come dice diana non c'erano le notifiche di adesso no è questo non posso dire tre di su questo un posto di rosario però posso parlare delle evidenze è stata anche questa questione una cittadina americana e quindi ci fosse l'influenza del governo insomma tantissime cose e adesso adesso kate esatto entra è già entrato in scena rudy e non ci sarà anche il suo processo certo vi siete anche svegliati insieme è probabile ma non posso dire con certezza il telefono riprende a funzionare alle 6 del mattino il telefono di sollecito mentre sul suo computer alle 5 di mattina si apre un programma per ascoltare la musica questo significa che sollecito alle 5 della mattina era già sveglio quindi il fatto che avessero dormito fino a tardi e che avessero passato tutta la notte in casa del sollecito veniva meno poi questa versione viene smentita da altre risultanze come per esempio la famosa dichiarazione del clochar curatolo antonio curatolo viene scoperto da me in particolare da un mio collega antioco fois circa un anno dopo il delitto curatolo ci racconta di aver visto la sera del delitto i due ragazzi raffaele amanda nella piazza dove lui viveva e di averli visti affacciarsi dalla ringhiera che circonda la piazza rivolti verso la caccia del del delitto io quando sono venuto qua erano verso le nove e mezza e alle il tempo di mettermi a sedere accendomi una sigaretta dammi un'occhiata attorno saranno passate cinque minuti te e allora già stavano la l'ultima volta che ero visti erano verso le undici e mezza poi messo messo a legge un attimo sono piato ho lasciato a rivista ma sono fumata una sigaretta l'autobus si sono passata verso mezzanotte portano l'autobus che portano i ragazzi in discoteca curatolo vide sollecito io vorrei credere anch'io di una persona ma guarda che lui l'ha scoperto i tempi in che senso i tempi questo giornalista è quello lì eh lo so dico ma io io me stesso che sono seduto in una piazza non mi ricordo sinceramente di quanto gente che passa davanti ma quella era casa sua boh c'è nel senso per dire lui è come se si abitasse lì io non so io queste cose non lo so non faccio fatica a credere devo dire e come vabbè vabbè discutere animatamente in quel campetto dove lui sostò dalle 21 e 30 della sera alle 23 e 30 circa curato lui li poneva fuori dall'abitazione di sollecito e nelle ore coincidenti con l'esecuzione dell'omicidio diciamo che queste testimonianze poi assumono un rilievo differente nei successivi gradi di di giudizio fondamentalmente per una contraddizione curatolo racconta che la sera del delitto intorno alla piazza aveva visto un via vai di ragazzi in maschera e di pullman di navette allora la difesa obiettava questo se la sera stessa in cui lui ha visto amanda e raffaele in piazza c'era la gente mascherata non poteva essere la sera del delitto quella era la sera di halloween di halloween era la sera precedente e magari è stata la precedente che le ha visti abbiamo fatto quasi buono mi ricordo centinaia di udienze con testimoni tra i più improbabili era diventata proprio una roba teatrale l'accusa voleva assolutamente vincere la sua battaglia noi della difesa volevamo dimostrare che stavamo dalla parte della ragione era diventata un po una partita di calcio però si stava parlando della vita di persone quindi purtroppo la situazione molto più triste di quello che può sembrare voi state per decidere della mia vita qualsiasi parola io posso dire in questo momento sarà meno di quello che sento dentro io non ho ucciso meredith e io non ero in quella casa la sera del delitto amanda è sicuramente la star nera di questa vicenda e da questo punto di vista tanto si è detto anche giustamente sul fatto che in molti momenti ci si sia dimenticati poi di meredith è quello che dicevo io l'inizio l'altra volta ricordate noi abbiamo avuto rapporti ovviamente con la famiglia di meredith che sia comportata con una dignità incredibile no 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 per favore perché sera scusate and the last time i spoke to her was on the first of november it was in the afternoon at about 2 15 she simply called just to see how i was and i said well it's expensive for you to call i'll call you this evening and she said i think i'm going out and so i said well i'll speak to you tomorrow then l'udienza dedicata all'esame dei familiari di meredith fu una giornata molto toccante il soggetto che più si emozionò fu il padre and what did meredith want for her future she did say to me that she was considering either being a journalist or working in brussels for the european community and what did you want for the future of meredith or whatever she wanted i rispose alle domande della corte in modo veramente molto molto emozionante i heard from her on the thursday day that she died early afternoon she rang to let me know she was coming back for my birthday then we were discussing because um of christmas coming up meredith aveva la madre malata e se fosse sopravvissuta sarebbe tornata a londra per passare il natale con la famiglia her death was unbelievable and real in many ways it still is still look for her we will never never get out of this mamma raga tosta eh eh si si pesante si esatto esatto Ryu c'è delle famiglie che vengono distrutte le famiglie tutto certo che si distruggono si stringe il cuore però ha ragione anche Mirko c'è questa cosa purtroppo avviene anche per colpa dei giornalisti c'è inutile poi dire tante volte ci si dimentica della vittima in questo caso tante volte ci si è dimenticato di merdith no no i titoli avete fatto una narrazione che andava in una certa direzione punto che andava sempre doveva più il click e la views poi ognuno si informa come può e nel miglior modo che può ci sono cioè adesso non voglio fare tutte le brown facie ci sono giornalisti che fanno il loro dovere in maniera onesta e cercano la veramente la verità e non lo share o le vendite però però si tratta veramente di poche persone e sì sì è vero è vero sì esatto marica esatto e amanda è proprio cioè come se questo caso riguarda a sé che è ovvio che riguarda anche lei perché giustamente poi anche loro hanno subito tutto questo hanno vissuto tutto questo però ragazzi la vittima è una sola cioè l'unica persona che non c'è più è meredith punto cioè è questa la verità merdi scompare dalla narrazione di questa storia molto precocemente come spesso accade peraltro purtroppo cioè le vittime sono quelle che alla fine rimangono proprio nella periferia della storia no in questa vicenda certamente la figura femminile dominante è stata amanda e ha oscurato tutto oscurato anche purtroppo la vittima in questi due anni abbiamo parlato forse troppo degli imputati e poco della vittima che a vent'anni non c'è più il giorno della sentenza c'era tantissima attesa la sentenza uscì tardissimo l'accusa aveva chiesto l'ergastolo la corte decise di concedere agli imputati l'attenuante generiche però uscì con una sentenza di colpevolezza la prima si 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 visti gli articoli 533 535 codice e procedura denale di primo grado dichiara nox amanda marie e sollecito raffaele colpevoli dei reati loro ascritti di condanna alla pena di anni 26 di reclusione la nox e alla pena di anni 25 il sollecito non ho fatto 4 anni di carcere preventivo non ho capito si non so se i 4 anni no i 4 anni hanno fatto due anni perché il delitto è successo nel 2007 erano passati esattamente due anni dal delitto e dopo di questo sono passati altri due anni poi ovviamente hanno fatto sei ricordi secondo grado rudi nel momento in cui viene arrestato gli si scatena contro una tempesta mediatica pazzesca maioncino grigio camicia scura jeans e capelli corti è un rudy che ha dichiarato di non aver ucciso né violentato meridith i telegiornali nazionali si aprivano con la faccia di rudy che in un video fatto per gioco insieme a suoi amici faceva degli strani versi questo ha comportato un condizionamento eccezionale quando venne identificato avevamo già un piccolo quadro come un ragazzo problematico che veniva da un vissuto familiare molto difficile è stato affidato una famiglia italiana da quello momento non ho più saputo notizie e quasi immediatamente emerse questa figura del bugiardo e questo era un suo tratto che sembrava abbastanza distintivo cioè quindi proprio lui ha sempre sostenuto e continua a sostenere di essere stato effettivamente dentro l'abitazione di aver tentato di soccorrere meridith dopo essersi accorto che era stata mortalmente ferita da un soggetto x che ha sempre descritto in maniera assai nebulosa ripeto e andando verso questa stanza mi trovo di fronte a una sagoma che ho ben memorizzato in testa era girata di spalle questa sagoma e quando io sono arrivato lì era una sagoma non più alta di me più alta né meno né più adulta lui si colloca lì racconta di aver conosciuto meridith di aver avuto appuntamento con meridith che meridith gli aprì la porta e poi accusa questo fantomatico ladro serial killer che entra improvvisamente e uccide mentre lui è in bagno nello spazio di pochissimi secondi ho visto questa sagoma e insomma la prima cosa che ho fatto è che è successo con chi è sto toccando la spalla destra di questa persona e facendo quel gesto mio questa persona si è girata con la sinistra e aveva in mano un coltello e io lo interrogo più volte durante le indagini lui dice quando sono entrato nel bagno dopo un po' ho sentito che c'era una ragazza che arrivava e lui riconosce in questa ragazza amanda che poi io mi chiedo ma perché amanda avrebbe dovuto suonare a casa sua cioè nel senso capito cioè secondo me sta roba del campanello poi non sta proprio in piedi cioè io ho le chiavi è casa mia ci abito pure io sì una confusione incredibile cioè poi vabbè adesso sentirete perché io non ho seguito la prima parte o in generale per chi non conosce bene il caso parleranno ovviamente dei precedenti di Rudy Gede che aveva già combinato dei fatti simili non aveva ucciso nessuno ma ha combinato dei fatti simili tipo rompere le finestre con un sasso per fare eruzione defecare e lasciare le feci senza tirare l'acqua purtroppo è successo anche questo insomma varie varie elementi che che fanno come la presenza della chiusura del telefono esatto e poi quindi come dicevamo l'altra volta probabilmente è stata davvero una rapina ma nel senso un furto più che rapina finito male potrebbe essere Rudy Gede in realtà parla già di amanda in maniera un po' più precisa di quanto faccia per quanto riguarda l'altro presunto aggressore che lui descrive all'interno della scena ma sua amanda è più preciso insomma diciamo che le sue accuse sua amanda anche se non saranno strutturatissime però già compaiono nella fase abbastanza precoce dell'inchiesta sono stato ferito sono caduto per terra ho lanciato una sedia che aveva portato in mano a questa persona questa persona è uscita uscita e dopo di che questa persona è uscita la paura era in me però ho voluto vedere il sentivo dei passi vari passi che si andavano sono andata nella stanza la prima stanza che avevo lì e ho guardato fuori ho visto la sagoma oltre che avevo riconosciuto a livello vocale la mandana ho visto la sua sagoma però ripeto ho sentito più passi allora l'unica cosa scusate se stoppo qua no perché non mi ricordo qual è la finestra che è stata rotta è quella o l'altra o qua sotto o quella sotto perché quando vedevo la piantina della casa l'unico dubbio che avevo era ma come hanno fatto a spaccare il cringe totale grazie peppe ho visto che già che prima stavi trafficando cioè nel senso forse non era quella finestra questa qua questa che riprendono mi sa perché perché se l'entrata di là quella che hanno ripreso è quella del piano superiore quindi è quella che si vede qua c'è uno facilmente la spa che ci entra perché quella che fa dopo magari torniamo indietro alla prima parte perché quella che facevano vedere col vetro rotto mi sono sempre chiesta ma uno come fa a entrare da lì cioè non c'erano neanche i tubi su cui arrampicarsi non c'erano di parkour magari salti ma era proprio difficile non so come dire dopo le faccio vedere cioè proprio in modo pratico mi è sembrato impossibile le sue versioni furono abbastanza diversificate a partire dalla chat con l'amico mentre lui sta in germania e l'amico sta collaborando con la polizia postale per cercare di rintracciarlo dove dice chiaro e tondo che amanda non c'entra assolutamente niente nelle indagini poi parlò di un'ombra di amanda insomma fu molto impreciso e anche estremamente ambivalente insomma cioè profondamente incoerente nelle sue dichiarazioni di sollecito sostanzialmente non parla cioè descrive un soggetto di sesso maschile ne descrive delle macroscopiche caratteristiche abbastanza comuni va detto e che dice comunque di non aver visto bene nel corso del tempo concluso la vicenda giudiziaria invece questa descrizione dei due soggetti diventa più chiara evidentemente col passare del tempo gli si sono chiarite le idee diciamo che diventa più preciso in maniera abbastanza sorprendente solo davanti a franca leusini a cui invece dice chiaro e tondo che si trattava di nox e sollecito fondamentalmente quello di quello di Lirudi è sempre stato un po' un aggiustamento e un po' è lanciare il sasso e tirare la mano ha sempre fatto così quindi ha sempre fatto una serie di valutazioni ritenute non pienamente credibili da parte dell'autorità giudiziaria che ha portato poi a un pronunciamento giudiziario molto severo in primo grado perché nonostante la scelta del rito abbreviato è stato condannato a 30 anni poi la corte assise d'appello ha ridotto a 16 anni poi di fatto la pena finale però indubbiamente le versioni di Gede sono molteplici sono tutte versioni in cui lui per quanto si sforzi non riesce a dare una spiegazione incoerente del suo comportamento perché obiettivamente il problema grosso di questa vicenda è che l'omicidio è a sfondo sessuale e l'unica traccia coerente di un'attività sessuale con Meredith è la sua nei racconti che lui ha sempre fatto noi riteniamo che non c'è mai stata incoerenza perché quello che lui ha detto alcune volte lo ha specificato alcune alcune volte lo ha detto in maniera più più aperta però io non ho mai visto contraddizioni su questo nella maniera più assoluta noi abbiamo conosciuto Rudy circa un anno di distanza nei tragici fatti di Perugia ho conosciuto Rudy perché faccio parte di un'associazione volontaria presso la casa circondariale di Viterbo Rudy viene definito uno sbandato anche noi nel primo momento in cui lo incontriamo rimaniamo in qualche misura condizionati da questa immagine che ci portiamo dietro da Emilia si disegna Rudy come un ladro professionalmente capace allora uno dice vabbè vado a leggere la fedina penale di Rudy trovo un elenco di precedenti infinito quantomeno su questa tipologia di reato assolutamente no anche la sentenza di primo grado che lo condanna gli concede le attenuanti generiche in virtù della sua pregressa incensuratezza nel primo anno e mezzo quando si è giocato l'intero suo processo dal primo grado secondo grado e Cassazione la vicenda emotiva è ancora fortemente sentita e quindi secondo me qualche condizionamento in qualche misura è presente nell'analisi della sua storia Rudy era certamente in una posizione molto scomoda c'erano le sue impronte nella scena del delitto c'era il suo DNA nella vagina di Meredith scalare l'Everest era più facile come difesa c'eravamo proposti che se gli altri avessero fatto il rito abbreviato noi avremmo fatto il dibattimento se gli altri avessero fatto il dibattimento noi avremmo fatto il rito abbreviato perché sono sicuro che se avesse fatto il processo con gli altri due tutte le colpe nel processo si sarebbero scaricate su di lui e certamente avrebbe preso le alcastro alla fine Rudy è stato condannato ma ha una pena che per la difesa è certamente una sconfitta però rispetto a un ergastolo rispetto a 30 anni prendere 16 anni c'è una differenza abissale insomma quando arriva la botta della prima sentenza io e mio padre non ci credevamo ci siamo sentiti molto in uno stato dittatoriale questa è stata la sensazione mi chiedevo lì posso avere speranza io di uscire da tutta questa coltre di pattume ha cominciato veramente a farmi questa domanda la domanda era agitata aveva molto paura di questo mi ricordo che mi trasferiva delle sue lettere io ero molto più improntato ad affrontare le cose giorno per giorno quando la prima sentenza la dichiara colpevole ovviamente lei si è sentita persa ma anche in quel momento ha cercato di reagire la radice della tranquillità è proprio la coscienza cioè se io mi sento innocente a quel punto c'è una cella interiore diciamo così che non viene disturbata da niente per cui questa secondo me era la realtà che più la sosteneva il fatto poi che delle persone credevano nella sua innocenza qualche persona amica che la seguiva e con cui era in contatto perlomeno epistolare i suoi avvocati a parte chiaramente i genitori questo la sosteneva molto è ovvio che mi aspetto il meglio ma sono anche realista per quanto riguarda la giustizia italiana il sistema giudiziario italiano è diverso dal nostro ma mi aspetto comunque il meglio proprio americano eh io l'ho chiamato il clan Nox perché ritengo che almeno dall'esterno fosse organizzato come un clan mazza da subito organizzano una raccolta di fondi per sostenere le spese per la difesa della Nox in udienza sempre presenti alternativamente madre, padre, sorella, parenti vari e si impegnano soprattutto nel movimentare personaggi importanti americani cosa che secondo me alla lunga ha dato poi un risultato importante ci furono pressioni dirette e pressioni indirette da parte degli americani ah ma allora c'è anche questo fatto si per un certo punto si è detto ma sta diventando un caso diplomatico per quello ti dicevo a un certo punto c'entra anche minchia l'America anche se infatti io ero molto sicuro eh ma loro erano potenti? c'era una famiglia assolutamente no una famiglia normalissima e perchè che ha detto che ma amore ma lo sa com'è l'America quando un americano si tutti con lui quando un americano è processato accusato di qualcosa in un altro paese figuriamoci c'è nel senso su questo si sa che è così poi succede agli altri e in America nessuno fa niente però si sa che con loro è un po' così no? eh è vero sembra proprio di spie ristoranti e muovono mari e monti per questo però eh loro erano famiglia normalissima cioè ehm ma ci sentite? guarda è ritornata ah adesso? è scesa la connessione all'improvviso si è è allargato ha dato una botta si è vero è andata a zero ma il nostro internet si si l'ho vista lì è andata proprio a zero tutto ah ok ci siamo andiamo allargato c'era un'attenzione molto forte dei media americani sostanzialmente innocentisti mi era il pubblico ministero più bersagliato in quel momento mi ricordo in quel periodo delle indagini soprattutto devo dire dopo la condanna di primo grado lì si è scatenato il finimondo l'america si è svegliata arrabbiata e pronta a sfidare il sistema giudiziario italiano pur di salvare la studentessa condannata a 26 anni di carcere gli statunitensi sono dalla parte dei nox c'è stato l'intervento della senatrice Mary Cantwell dello stato di Washington è intervenuta presso l'allora segretario di stato Clinton ed anche Hillary Clinton interviene sul caso non ha espresso alcuna preoccupazione al governo italiano ha detto il segretario di stato americano intervistata durante la trasmissione televisiva The Week sul canale ABC la Clinton ha precisato di essere disponibile comunque ad incontrare chiunque abbia qualche preoccupazione sulla vicenda ma io ho avuto anche lettere di minaccia che mi arrivarono da un giudice della corte superiore dello stato di Washington un certo Michael Heavey che erano piene di richiami biblici invitandomi a darmi da fare per liberare Amanda perché se io avessi insistito nel mio atteggiamento gli americani se lo sarebbero ricordati non erano argomentazioni rispetto alle singole prove o ai singoli elementi che emergevano sia dalle indagini che dai processi era un atto di fede cioè Amanda è innocente e il processo italiano è sbagliato proprio per scelta era un po' un attacco al sistema la giustizia italiana si sentì sempre sotto esame di fronte alla valutazione americana politica, mediatica e così via dopo l'esito positivo del primo grado iniziò il grado di appello dove fin dall'inizio abbiamo avuto il sentore che l'aria fosse cambiata il primissimo giorno d'udienza il giudice Alatre fece la relazione introduttiva questo collega Zanetti disse che l'unica cosa certa di questo processo era la morte di Meredith proponendo quindi a tutti i presenti accusa, difesa, parte civile il fatto che tutto il resto fosse ovviamente caratterizzato da incertezza in questo modo la corte aveva praticamente rivelato che Rebus Sixtantibus gli imputati andavano assolti all'inizio del processo quindi questo era il clima e subito così sono partiti ma non hanno detto così hanno semplicemente detto che l'unica verità è la morte di Meredith che quindi bisognava rifare tutto da zero cosa c'entra a fare che fossero che ne avesse dichiarate innocenti e sono detto che bisognava rifare tutto come comunque era giusto si facesse perché è stato pieno di errori prima cioè al di là dell'America concordo cioè anche perché cioè adesso che minacce hanno mai potuto subire dall'America quindi cosa facevano? potevano assolvere Amanda e comunque ritenere colpevole Raffaele cioè perché poi le hanno assolti tutti e due o comunque quali pressioni Amanda era più implicata sembrerebbe rispetto a Raffaele così grandi hanno subito Raffaele è una sagoma per loro di che ha detto ma perché che implicazioni che minacce così grandi hanno subito per poi a un certo punto dopo un anno ribaltare tutto probabilmente si sono resi conto dell'errore che ci sono stati hanno ordinato altre perizie poi magari queste perizie potevano ridare ragione a loro certo e ricondannarli cioè chi l'ha detto? boh quindi hanno rifatto tutto praticamente ecco quindi ecco quindi che viene nominato di corsa un collegio peritale formato da due periti la corte rassiste da di appello ha disposto una perizia da esperti super partes con l'oggetto di valutare effettivamente tutte le analisi genetiche svolte dalla polizia scientifica durante le indagini ah ti puoi valutare come sono state fatte? in particolare furono nominati quali periti la professoressa Carla Vecchiotti e il dottor Stefano Conti il lavoro affidato a Vecchiotti e Conti era quello di valutare l'operato della polizia scientifica e determinare se quelle risultanze fossero solide o meno cosa vuol dire? andiamo nel dettaglio i due reperti sottoposti a maggiore attenzione perché quelli sui quali si fondava un po' di più la dinamica erano il gancetto del reggiseno trovato in casa e poi il coltello che era stato sequestrato e sul quale manico era stato trovato il DNA di Amanda e sulla lama quello di Meredith il mio ruolo insieme a quello del professor Novelli è stato quello di essere i consulenti della procura ovvero gli esperti nominati dalla procura che dovevano portare avanti insieme ai periti valutare appunto davanti il lavoro di revisione valutare effettivamente quanto era stato fatto all'epoca del processo di appello vi furono due opposizioni contrapposte che erano quella dei consulenti della procura dove noi dicevamo che quelle tracce erano attribuibili e che erano attribuibili con certezza agli indagati mentre l'opposizione della difesa ovviamente era quella che quelle tracce fossero caratterizzate da troppi fenomeni che noi definiamo casuali che le rendevano non utili e di questo avviso fu anche la perizia poi vecchiotti e conti la discussione si è incentrata su due leitmotiv diciamo da un lato l'eseguità delle tracce analizzate dalla polizia scientifica soprattutto quella sul coltello una traccia low copy number quindi una traccia molto piccola e dall'altra parte la contaminazione su uno dei coltelli sequestrati nel cassetto della cucina di Raffaele la scientifica era riuscita a isolare una microtraccia di DNA appartenente a Meredith Kercher la dottoressa Stefanoni l'incaricata dalla procura della repubblica per quel tipo di indagini era riuscita a cogliere questa traccia biologica in una micro scanalatura del coltello dove probabilmente nonostante un possibile lavaggio era rimasto del materiale biologico e sin da subito si dice che il campione di DNA era molto esiguo e i periti decisero di non procedere all'esame del materiale biologico perché ritennero che già quando la scientifica aveva svolto gli accertamenti in laboratorio la quantità di materiale biologico fosse così esigua da non dare certezza del risultato i periti della corte criticano tutto arrivano a criticare anche la metodica con la quale sono stati amplificati i campioni biologici per arrivare al risultato di quei DNA cioè secondo la vecchiotti la traccia biologica sulla lama del coltello sequestrato non andava proprio amplificata quello che nessuno disse mai apertamente è che molti probabilmente pensavano che quella traccia fosse una traccia anche apposta dolosamente su quella lama come dire per far tornare la storia ovviamente la risposta sarebbe anche fin troppo semplice se qualcuno ce la dovesse aver messa ce ne poteva anche mettere di più ci sono stati tantissimi errori e il primo tra questi errori noi riteniamo sia stato quello di negare una perizia quando finalmente è stata data sapete che il risultato che ha offerto questa perizia è quello della non possibilità di attribuire il DNA a Raffaele Sollecito questa non possibilità quando finalmente i giudici hanno chiesto di fare una perizia da parte dei periti nominati da loro per me si sta nel primo raggio di sole in mezzo alle nubi finalmente posso sperare che sostanzialmente si metta nello su bianco qualcosa di serio e concreto in tutto questo marasma e infatti così è stato fondamentalmente il reperto 36 e il gancetto del reggiseno di Meredith che è stato 47 giorni senza essere accolto dell'intero processo secondo i periti se era stato ritrovato il DNA di sollecito sul gancetto del reggiseno questo dipendeva dal fatto che la traccia era stata contaminata sia dal ritardo nella repertazione sia nella cattiva gestione delle fasi successive di conservazione e di analisi sul gancetto del reggiseno è stata dalla polizia scientifica effettuata l'analisi e fu determinata la presenza di Meredith Kerch e di Raffaele Sollecito i periti contestarono la attribuibilità di quelle tracce ovvero la possibilità di utilizzarle a scopo identificativo dicendo che era possibile che fossero frutto di contaminazioni perché magari c'era esiguità di materiale e perché la polizia scientifica aveva analizzato quelle tracce in un laboratorio dove anche altre tracce di quegli indagati erano state analizzate Dissero che la polizia scientifica aveva violato i protocolli in quanto non aveva cambiato i guanti tra la ripetazione di una traccia e la ripetazione della traccia successiva il professor Conti che era uno dei due periti nominati dalla corte fece vedere anche il primissimo piano del guanto della dottoressa Stefanone con cui stava manipolando il gancetto di reggiseno mostrando una presunta macchia ritenendo che quella fosse una macchia di sporco che quindi avrebbe potuto contaminare il gancetto stesso Loro hanno sempre ritenuto che quel reperto fosse stato contaminato ma la vera domanda è da che cosa? Chi ha sempre creduto alla tesi della non contaminazione dei reperti ha mosso poi da una considerazione abbastanza banale il DNA di Raffaele Sollecito nella stanza di Meredith non ci doveva essere che fosse stato sul gancetto sul pavimento sulla borsa o sul materasso La contaminazione non basta solo invocarla bisogna dimostrarla è un risultato esso stesso e ogni risultato per poter essere asserito deve essere dimostrato mai nessuno dimostrò la presenza della contaminazione perché non era dimostrabile perché in tutti quanti le tracce noi non troviamo mai presenza di contaminazione ah ho capito perché loro dicono ma come fa anche se è stato contaminato come fa esserci il DNA di Raffaele nella stanza se in quella stanza non ci sarebbe mai dovuto essere il DNA di Raffaele boh magari in bagno nel bagno dove che utilizzavano tutte Amanda e Meredith magari sicuramente avrò utilizzato anche Raffaele mi chiedo ma Raffaele è passato di casa lì prima qualche volta credo di sì si frequentavano da sei giorni eh ma credo di sì eh ragazzi non so per me è un caso che rimane cioè vedi ora si intendo molto strano eh per me l'unica cosa certa è che non si può arrivare a una verità cioè no è possibile non la sappiamo per quanto ovviamente uno può dire sicuramente è stato Rudy per quanto altri possono dire no è stata Amanda Raffaele io dico non lo posso dire con certezza non ci sono stati troppi errori troppi errori troppi errori troppi errori e appunto per quello di e no infatti quello che dicono è quello che dicono è eh il DNA di Raffaele dato che non scena sulla scena del delito come ha fatto a contaminare il gancetto? quindi non è contaminazione dicono loro lui è entrato quando ha visto il corpo? no non è entrato ma la porta è chiusa non ha mai visto la stanza mai è entrato solo in casa lui non ha mai visto la porta era chiusa da dentro lui non ha mai visto la stanza l'ha aperta il ragazzo di un'altra inquilina l'amico insomma e e Amanda e Raffaele non hanno mai guardato dentro la stanza non sono mai entrati sono usciti subito subito continuiamo noi ci rendiamo conto se le indagini sono svolte bene se i risultati sono frutto di una contaminazione i periti della corte d'assiste d'appello di fatto hanno depositato un elaborato solo per criticare la polizia scientifica tra l'altro compiendo anche degli errori la professoressa Vecchiotti è quella che riterrà di aver individuato un'altra possibile traccia biologica su quel coltello ma di aver deciso autonomamente di non analizzarla quella traccia invece andava analizzata e perché ho l'analizzata? non è vero occorre fare molta chiarezza perché il genetista nei casi nei casi criminali è colui che caratterizza le tracce biologiche noi attribuiamo presenze determiniamo la presenza di persone su oggetti o luoghi o persone perché questo è avvenuto e quale potrebbe essere l'azione omicidiaria che può aver portato a questo non è il mestiere dei genetisti nel caso di specie credo che questa differenza non fosse così chiara scusate perché c'è la finestra che si vede aspettate l'azione omicidiaria che può aver portato a questo non è il mestiere dei genetisti determiniamo la presenza di persone su oggetti o luoghi o persone perché questo è avvenuto ecco guardate scusate ragazzi ma è quella di sopra questa? vedi dove è la finestra ma è quella? è praticamente è sua eh ma vedi che non c'è modo cioè vedi che qua lì c'è la staccionata cioè cosa fa? uno si lancia dalla staccionata per entrare? quindi che ha spaccato per far finta? capito quello che intendo raga che a me non mi è mai tornato della prima cosa che ho notato che ovviamente non mi ricordavo quando ero più piccola mentre adesso mi informavo guardavo i video e dicevo ma come cazzo ha fatto entrare a quella finestra? perché tu non cioè ti devi lanciare non so come spiegarti ma ora hai fatto apposta cioè non ti puoi arrampicare questo non vuol dire che cioè Rudy è sicuramente è passato da quella casa magari ha inscenato è perché raga cioè è veramente impossibile infatti anche secondo me cioè secondo me lui o comunque qualcuno è inscenato che può essere anche Rudy sicuramente lui è entrato dalla porta raga e quella finestra è stata rotta cioè è stato inscenato perché o comunque il problema è che lei questa è la stanza di Meredith giusto? lei era chiusa dall'interno dentro quindi o si è lanciato giù e si è ferito no ma tu hai detto che si può anche chiudere da fuori ah già è vero è giustamente è vero è vero con la chiave di tutte le stanze è perché raga è proprio in modo pratico è impossibile entrare in quella finestra meno che tu non ti vuoi che sia inscenato no scusami la stanza di Filomena era rotta hai ragione Mirko ah dell'inquilina Meredith era chiusa a chiave da dentro ok? ma questa è la stanza di Filomena ma comunque al di là che fosse di Filomena o di Meredith io sto proprio parlando del fatto di irrompere dentro qualcuno l'accusa dentro cioè era impossibile era impossibile capito? perché vedi qua c'è l'assaccionata ma finisce c'è un vuoto c'è un vuoto c'è un vuoto di capito del secondo piano e non ci sono vedi né tubi né niente per arrampicarsi no no e quale potrebbe essere l'azione omicidiaria che può aver portato a questo non è il mestiere dei genetisti grazie Giulia nel caso di specie credo che questa differenza non fosse così chiara e che è stato chiesto ai genetisti proprio perché il contesto era molto complicato e di formulare delle ipotesi che non è nel lavoro nostro di genetisti forense no non era non era né chiusa né rotta scusami né aperta né rotta quella di Meredith no era a posto comunque no Marti volevo leggere il suo messaggio che ho scritto tanto e io comunque una domanda me la faccio la verità non si arriverà mai ed è vero ma come si commettono hanno certi omicidi senza essere mai scoperti cosa fanno scrivono da momento all'altro avendo fortuna di non essere beccati non si preparano i piani come nella casa di carta perché veramente io non me ne capacito che dopo tante intagini non si capisca chi è l'assassino anche quando sparisce qualcuno non si trova mai più è vero Marti hai ragione non lo so ci sono gli omicidi premeditati gli omicidi di impeto in questo caso credo sia palese che non ci sia non credo ci sia qualcosa di premeditato almeno da come lo vedo io e però ciao Andrea buonanotte probabilmente in tante occasioni si riesce ad arrivare subito alla verità e in altre situazioni come in questa ci sono troppi errori non si riesce e in altre ti va anche di fortuna cioè graziati dagli errori ciao Andrea buonanotte ma il punto è buonanotte si ma Rudy non aveva già precedenti su furti eccetera se fu è stato lui perché inscenare questa cosa con Gesso e precedenti e infatti esatto e anche qua è un'altra domanda capite? ma il punto è qual è il movente? il sollecito già frequentava Amanda conosceva Amanda da sei giovani è possibile essere è reso complice omicidio e infine Meredith l'avrebbe uccisa perché? con l'audito di chi? ma qualcuno mi ha dato se Meredith non sia mai stata seguita dalla festa da cui tornava in realtà quella sera non tornava da una festa perché era la sera tornava prima a casa era fuori era era la sera del primo novembre quindi lei la festa di Halloween è andata la sera prima era forse a casa di un'amica si era a casa di un'amica a far merenda e poi è tornata i motivi che i moventi che hanno dato loro il movente di Rudy sarebbe un movente comunque sessuale e probabilmente un furto finito male invece dicevano che il movente di Amanda un po' parlavano di questa volontà insomma di questo gioco sessuale finito male altri invece per il fatto che Amanda e Meredith non andassero d'amore d'accordo vabbè e anche questo effettivamente anche quello che dice Mirko non è sbagliato perché perché concentrarsi in senso comunque Meredith aveva una vita era ben integrata anche a Perugia no? sai usciva con quelle sue amiche quelle americane che si poi comunque non ho mai chiesto niente a nessuno come diceva Mirko anche gli altri suoi compagni cioè quelli che giocavano i suoi amici che giocavano a basket compagni di Rudy cioè effettivamente in un caso del genere o magari o magari sono stati interrogati ma li hanno esclusi però effettivamente non vengono mai nominati vero vabbè vediamo io non voglio essere punita privata dalla mia vita dal mio futuro per qualcosa che non ho fatto per Amanda e Raffaele tira vento di assoluzione un vento che è arrivato fino a Londra perdonare è molto difficile nessuno può morire in quel modo dice Stefani la sorella coetanea di Meredith ora vogliamo giustizia e verità in nome del popolo italiano la corte di assise di appello di Perugia assolve entrambi gli imputati dai reati loro scritti ai capi A, B, G e D per non aver commesso il fatto ordine all'immediata liberazione di Nox Amanda Marie che sollecita Raffaele se non detenuti per altra cance quando il giudice diceva la sentenza di assoluzione io ero ero depresso mi aspettavo un mondo totalmente ostile come è stato la sera della sentenza d'appello la piazza insorse contro i giudici forse in piazza c'erano solo i colpevolisti o forse gridavano più forte ma sicuramente quelli che quella sera attesero la sentenza d'appello ritenevano che Amanda e Raffaele erano colpevoli sì ma non ci interessa di chi ritiene con mi ricordo che eravamo scesi con l'ascensore giù nella parte sotterranea dei tribunali lei mi parlava di come avrebbe voluto salutare il cappellano del carcere e mi parlava del fatto che comunque ha conosciuto delle bellissime persone che non vedeva l'ora di tornare negli Stati Uniti dalla sua famiglia quando è salita sul palco allestito in un parcheggio dell'aeroporto di Seattle è stata accolta da un grande applauso e lei ancora una volta non è riuscita a trattenere le lacrime qualcuno mi ha ricordato che devo parlare in inglese sono sommersa dalle emozioni guardavo la mia città dall'aereo e non mi sembrava vero ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me adesso voglio stare con la mia famiglia volevo sentirmi così contento di tornare a casa come lei ma in realtà dentro di me ero contento di tornare a casa ma quello che circondava a casa mia non mi lasciava contento non glielo ho esternato sinceramente però dentro di me avevo chiara questa sensazione ed ora un nuovo processo di appello la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura Generale di Perugia ed ha annullato con rinvio la sentenza di appello che nel 2011 aveva assolto Raffaele Sollecito e Amanda Knox c'è tutto il palco la corte di Cassazione la prima sezione fa praticamente tabula rasa della sentenza di Perugia un'altra volta c'è ragazzi capite? la Cassazione di primo grado ha accolto in totto i motivi di ricorso della Procura Generale proprio sulla scorta sia del fatto che gli alibi falliti erano un elemento che non poteva essere trascurato sia perché le critiche alle analisi scientifiche non erano fondate su elementi concreti per me quella notizia è stata ricadere nell'incubo perché di fatto mi sono risentito di nuovo dentro un vortice che non finiva mai c'è un lato positivo di questo trama è stato che sono stato per gli Stati Uniti ho scritto un libro lì sono andato anche in Repubblica Domenicana e sono rimasto lì quindi sì ci ho fatto quasi un annetto andando avanti e indietro e tu come passi del tuo giorno? di cringe totale io le mie giornate le passo le 100 miliardi e anche se... preparando ancora una volta il processo sì esatto e mi sto dedicando a questo allora... ciao De Gio grazie De Gio grazie mille sono sette eh grazie sette mesi mamma mia grande De Gio ci supporta sempre in distanti finali pagando e pagando arriva e paga la scena della piazza piena è l'esempio di un grande problema odierno il processo di avvenire in un'aula di giustizia non sui media e non in piazza appunto il processo giudiziario per legge ti garantisce il principio di innocenza fino a prova contraria quello mediatico no può condannare rovinare in un centro stesso modo assolvere idolatrare colpevoli esattamente c'è il processo mediatico ti rovina ammazza fede brava esatto comunque c'è il processo l'unico processo che conta è quello in aula c'è lui andata a Santo Domingo a rileggere gli atti e a ripreparare il processo perché è arrivata questa notizia fuori dal cerco e dalla pressione delle persone curiose le giornalistiche sono abbastanza pressanti nella vita privata poi sono tornato in Italia quando c'è stato il processo d'appello bis perché si vociferava già che fossi fuggito per sfuggire al destino in Italia tutti dicono che pensano che tu sia già l'abitante a Santo Domingo in questo paradiso dei Caraibi e che non avrete nessuna intenzione di tornare appunto nel nostro paese per rispondere davanti alla giustizia delle tue imputazioni come ho già detto io soffiato ma lui non può viaggiare questo timore anche perché l'Interpol in qualsiasi momento può infracciarmi in un battito di cibo non era minimamente mia intenzione passare la vita da clandestino 30 settembre 2013 inizia l'appello processo bis ora di fronte a voi vengo portato dopo una storia molto lunga di processi dove mi hanno descritto come un assassino freddo e spietato io ovviamente non sono niente di tutto questo sono di fronte a voi e sono qui proprio per cercare di farmi conoscere e dimostrare effettivamente qual è la realtà di tutta questa vicenda non mi ricordo quello che ho detto davanti alla corte di Firenze sono passati un po' di anni però tendevo a trasmettergli minimamente il senso di estremo disagio e di sconforto che ci si prova ad affrontare una situazione così drammatica la prima corte di Cassazione criticò anche la dottoressa Vecchiotti per il fatto di essersi rifiutata di analizzare la seconda traccia trovata sulla lama del coltello Vecchiotti lo motiva ritenendo che siccome la traccia esigua tanto quanto quella in cui la Stefanoni disse di aver trovato il DNA di Meredith sarebbe in corsa nello stesso errore della scientifica sarà analizzata dagli esperti del RIS in corte d'assise d'appello a Firenze il RIS analizzò quella nuova traccia e venne attribuita ad Amanda Knox verosimilmente lasciata da Amanda nel lavoro di ripulitura della lama Quali erano le novità per fare un altro processo? Zero Cioè si era semplicemente detto forse non abbiamo analizzato una traccia si fa un processo per analizzare una traccia X di Amanda Fu un processo molto contestualizzato si passò sostanzialmente allo sviluppo al completamento di quella perizia e si andò alla fine in tempi molto veloci a discutere le singole posizioni A chi devo pensare in un contesto di questo tipo se non a quella stessa Knox che in qualche modo già ci segnala lei con le sue parole di esserci stata? La strada era già delineata per tornare ad una sentenza di condanna In nome del popolo italiano la corte d'assise d'appello di Firenze nel procedimento penale contro Knox Amanda Marie sollecito Raffaele ridetermina la pena inflitta a Knox Amanda Marie complessivamente in anni 28 e messi 6 di reclusione conferma nel resto l'impugnata sentenza Ancora? A Firenze mi condannano per pregiudizio come è stato in primo grado non c'era nessun cambiamento la condanna di Firenze per me è stato l'intorno del baratro non avevo speranze particolari cercavo di vivere le mie giornate cercando di avere un minimo di normalità sperando che alla fine tutto si potesse risolvere oltretutto ero seguito anche da più di 11 poliziotti di scorta perché avevano paura che in qualche maniera fuggivo dall'Italia aspettando l'ultima Cassazione C'è un saldo che pensa ormai Quindi come è finita? Ci ho tenuto ad andare direttamente io di persone in Cassazione l'ultimo giorno quando ci sarebbe stata la discussione a Roma per vedere in faccia chi avrebbe deciso della mia vita non c'erano prove sufficienti per confermare le condanne oltre ogni ragionevole dubbio insufficienza di prova una decisione che i giudici della quinta sezione penale della Suprema Corte hanno preso al termine di una camera di consiglio molto tesa durata dieci ore Davvero questo è un giorno importantissimo credo per Raffaele Sollecito ma credo anche per chi crede fortemente nella giustizia la sentenza che ora è stata emessa è una sentenza non che ci dà un po' di ragione ci dà totalmente ragione la sentenza di Cassazione parliamo della seconda Cassazione che annulla senza rinvio e sostanzialmente assolve in via definitiva Nox è Sollecito lascia spazio a tantissime ombre la seconda Corte di Cassazione demolì definitivamente l'ipotesi accusatoria ritenendo la inutilizzabilità in sostanza dei risultati delle analisi scientifiche tenuto conto della fermata contaminazione Si sa che era contaminato ma non bastava era troppo poca l'evidenza Il concetto che porta poi all'annullamento senza rinvio è che proprio le criticità, le fragilità dell'impianto accusatorio soprattutto di tipo scientifico non hanno consentito di superare la soglia del ragionevole dubbio In tutta la motivazione parla di gravissime lacune di grandi defaianze da parte degli investigatori sia per quanto riguarda i reperti come l'acquisizione del gancetto solo 46 giorni dopo ma anche proprio sullo svolgimento delle indagini La sentenza esaurita questa parte di critica rispetto alle problematiche che c'erano relativamente agli accertamenti svolti in realtà poi offre una ricostruzione dei fatti Il passaggio che gli ermellini fanno Ma passate attenzione, perché loro comunque come vi dicevo nella prima parte comunque i giudici assolvono definitivamente senza rinvio eccetera Però danno la loro versione Ma collocano Amanda nell'abitazione nella casa Ok? Presenza certa e usano proprio la parola certa della Knox dentro casa mentre Meredith muore è chiaro che gli smentisce La Corte di Cassazione dice questa è un'ipotesi che potrebbe essere reale nel momento in cui avessero costrutto le dichiarazioni di Amanda ma siccome le dichiarazioni di Amanda non hanno costrutto sono state dichiarate storte in maniera illegale non si è avuto riscontro mai di quelle dichiarazioni è normale che sostanzialmente si tratta di un'ipotesi fallita Io ricordavo una cosa ma immaginavo una cosa sotto la pressione della polizia quindi ero confusa e dovevo in qualche modo spiegare questa confusione Se avessi avuto tutti questi dubbi la Corte di Cassazione mi avrebbero inviato un altro giudizio di appello invece non è stato così Quindi c'è e vedi e dichiara ah sì dalla finestra ah no ma lì c'era il vuoto una volta no ma adesso sarà avranno messo un soppalchino Le ambiguità sono tutte quelle che ho un po' detto tante volte il fatto che Rudy Gede lo si descriva autori insieme ad altre persone ma poi non si identifichino le altre persone il fatto di dire che i due imputati hanno detto il falso su certi momenti della serata e della nottata ma senza dire perché lo hanno fatto visto che sono stati assolti sappiamo che le sentenze devono essere sempre rispettate quindi pur accogliendo questa valutazione se vogliamo a queste domande andava data una risposta alla fine Rudy Gede è stato l'unico condannato ma Rudy non è sicuramente l'autore materiale dell'omicidio e quindi sicuramente c'erano altre persone ma che per la giustizia italiana sono rimaste ignote quindi non ne sono neanche Rudy per la giustizia Gede c'era una convergenza di elementi sia di natura scientifica il suo DNA nel corpo di Meredith le sue orme dentro la scena del crimine peraltro insanguinate le sue impronte il suo materiale biologico in uno dei bagni dell'abitazione insomma che lui fosse lì e che fosse lì dopo che Meredith aveva subito le lesioni mortali era una circostanza su cui non si poteva discutere io non credo assolutamente che Gede fosse solo perché la tipologia di lesioni presenti sul corpo della vittima lasciano ampiamente ipotizzare che fosse messa in una condizione di minorata difesa quindi con qualcuno che la bloccava e poi in quel caso poi qualcun altro la molestava l'aggrediva sessualmente e poi la feriva mortalmente quindi la presenza di due persone credo che sia francamente l'unico scenario in grado di giustificare le informazioni che abbiamo a disposizione anche dal punto di vista medico legale chi fosse in quella stanza insieme a Gede ai noi non è dato saperlo ma lo stesso Gede non ha mai a mio modo di vedere raccontato fino in fondo questa storia la spasmodica ricerca come si esprimono gli stessi giudici della Cassazione di uno più colpevoli da dare all'opinione pubblica ha condizionato la ricerca della verità tutti siamo rimasti forse condizionati nei primi mesi compresi i media in alcune riviste ho letto che appunto il DNA di Rudy è ovunque non è così non c'è materiale biologico in maniera copiosa dice proprio uno dei passaggi delle sentenze certo anche alcuni aspetti riguardanti il racconto di Rudy mi lasciano perplessità è vero che Rudy ha modificato la sua versione almeno due tre volte e questo non fa altro che disegnare un profilo inaffidabile no? però non dimentichiamo che qualcun altro ha messo sulla scena del crimine una persona totalmente estranea ha coinvolto lei per tirarsi fuori? Sì certo e quindi non è sulla base delle bugie raccontate che si deve valutare la colpevolezza o l'innocenza di una persona quindi io non posso avere certezze che riguardino l'innocenza di Rudy però posso avere molti anzi forse troppi dubbi che riguardino la sua colpevolezza e sull'innocenza degli altri due il percorso che ha fatto Rudy Guede di rieducazione è un percorso che è stato valutato proprio dal Tribunale di Sorveglianza di Roma come un percorso completo senza pecche e quindi possiamo dire che da un punto di vista tecnico sicuramente Rudy Guede è riabilitato da un punto di vista personale ritengo che sia un ragazzo diverso da quello che è entrato in carcere e sicuramente una persona che è pronta a reinserirsi nella società speriamo in qualsiasi modo cioè me lo auguro quando c'è stata finalmente la soluzione questa volta ho gioito un po' però non ero felicissimo perché tra me e me vedevo che comunque ci sarebbero state delle difficoltà grandi per me ad affrontare in tutto questo casino quello che viene raccontato ancora oggi di me da parte delle media è sempre molto altalenante spesso lasciano il sacco di ombre si sono lasciate lì nello spazio del tempo tutte le stupidaggini le bugie dette sulla personalità e quant'altro e ancora oggi comunque ci sono persone che ci hanno creduto con le stupidaggini quindi glanzialmente mi hanno fatto un danno che rimane fatto e mai nessuno ha cercato di ripararlo sul palco scenico mondiale io non ero un'imputata innocente fino a prova contraria era ero una furba psicopatica sporca e drogata e drogata p**** colpevole e fine a prova contrario per quanto riguarda il delitto di Perugia l'opinione pubblica ha immaginato che Amanda e Raffaele abbiano concorso nell'omicidio di Meredith e nonostante le sentenze assolutorie chi aveva quella convinzione di colpevolezza dei due ragazzi è rimasto con questa certezza cioè chi era del partito dei colpevolisti è rimasto colpevolista era una storia falsa e infondata ma ha scatenato l'immaginazione della gente parlava alle paure e alle fantasie della gente io ero innocente ma non ma il resto del mondo hanno deciso che ero colpevole e alla gente piaceva questa storia la sporca psicopatica mangiatrice di uomini faxinaxi chiudere questo processo così senza un vero colpevole non necessariamente i due ragazzi che sono stati assolti ma senza mettere una parola fine ha solo alimentato in alcuni casi ad arte in molti dubbi che ogni processo indiziario si trascina dietro no volevo leggere un po' di messaggi che sono rimasti indietro buonasera ciao Olga ciò che sta entrando adesso più ascolto tutto questo più penso che le indagini non avevano per niente senso le testimonianze contraddittorie che non avevano senso tutto senza senso si potrebbe riassumere tutto con un comment tutti un po' pagliacci e c'è stato non lo so ragazzi veramente tutto molto confuso tutto veramente molto confuso non lo so per le serate crime posso suggerire faking it di replay penso possa piacervi molto l'intervento di tre esperti watcher listen profiler in teore sono una figata in pratica sono interessanti ma anche un po' cringe che forse mi sembra averlo già visto faking it eh ci devi ciao tutto bene poi la però rimane un attimo in like qua su twitch poi la dovrò togliere la caricheremo su youtube su youtube però la vedrai tra un po' di tempo perché stiamo caricando in ordine cronologico le crime precedenti che abbiamo fatto quando questa storia si chiuderà definitivamente sarà più giusto ricordare la povera Meredith la sua famiglia che non ha ancora oggi avuto piena giustizia quindi queste sono le vere vittime di questa storia Meredith scompare da questa storia perché era una ragazza normale perché era una ragazza per bene perché era una ragazza senza lati oscuri che aveva una famiglia di persone per bene molto tranquille che con enorme dignità hanno affrontato la situazione di lei non si è mai ricordato nessuno in questo processo è notata pochissima pietà e forse l'unico attimo di pietà se quella è pietà a meno che quella invece non sia volontà ancora di nascondere è quel piumone buttato sopra il corpo di Meredith 27 marzo 2015 la corte di Cassazione assolto effettivamente Amanda Knox e Raffaele Sollecito dalle accuse di concorso in omicidio e violenza sessuale per non aver commesso il fatto Amanda Knox è stata condannata a tre anni di reclusione per il reato di calunnia ai danni di Patrick Lumumba la pena è stata ritenuta già scontata durante il periodo di custode cautelare in carcere che avevano fatto quattro anni il 24 gennaio 2019 la corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia a risarcire Amanda Knox per danno morale per la violazione dell'articolo 6 di un pari cos'è uno e due diritto alla difesa del cotrattamento in relazione all'interrogatorio del 6-11-2007 quindi quando lei ha dichiarato di essere stata diciamo importunata, picchiata eccetera il 27 giugno 2017 la Cassazione ha respinto la richiesta di esarcimento per ingiusta detenzione avanzata da Raffaele Sollecito il 16 dicembre 2010 la corte di Cassazione ha condannato in via definitiva a Rudy Ghedea a 16 anni di carcere per reati di omicidio in concorso e violenza sessuale e lui per... però in concorso, capito? il 4 dicembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma gli ha concesso l'affidamento e servizi sociali è un po' per voi però, per la giustizia ti ascoltate la supera bene ragazzi ah comunque... eh? così hai permesso il termine stronzo cagato perchè? eh... quindi è lui cioè nel senso per la giustizia è Rudy Ghedea purtroppo cioè... a fine puntata ci potete dire che ne pensate realmente cioè secondo voi se i copri avranno di loro l'esterno sarebbe carino avere una vostra opinione allora... io sono un po' confuso eh sì sono molto confusa secondo me non lo so io ho detto quello che oltre a questo documentario ho ascoltato ho letto ho visto eh... di altri eh... insomma podcast video documentari eccetera allora... mh... sicuramente... cioè Rudy Ghedea è... 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 è comunque coinvolto cioè è per forza coinvolto quindi io sono... l'unica cosa di cui sono certa sì perché... cioè... che secondo me ehm... lui ha per forza fatto qualcosa nel senso che per i precedenti che ci sono stati per il fatto che comunque lui sia fuggito subito dopo lui si trova in Germania ehm... non lo so insomma credo l'unica cosa di cui sono certa è che lui ci sia stato e che lui abbia eh... comunque sia sia coinvolto in prima persona a quanto pare è certo anche che Amanda fosse lì perché c'è scritto ma infatti anche perché non sta tanto in piedi cioè perché Raffaele Amanda e Rudy sembra strano questo trio eh... di... di... di assassini che è andato lì per fare un gioco sessuale come... non so mh... come dico io a volte è più semplice di quello che sembra cioè non bisogna costruire delle storie a volte troppo fantaseose cioè ragazzi probabilmente è veramente stato un furto finito male o magari una volontà di violenza sessuale da parte di Rudy cioè... sì... sì allora però il fatto che... o magari... o lui comunque è stato anche aiutato da altri eh... sembrerebbe che sia che lei fosse immobilizzata sia stata immobilizzata sembrerebbe però ragazzi sono stati anni e anni i processi eh... non lo so mh... ti posso dire la mia sono un po' in dubbio ci sono un sacco di cose eh... sbagliate nella ricerca delle prove quindi... cioè puoi solo ipotizzare e... cosa puoi... cosa puoi dire sono quasi sono... anzi ho anche l'idea del... del fatto che magari ci potrebbe essere stata una... un'altra persona con Rudy capito? sì esatto che però non so che capisco il suo dna non... non lo so però questa altra persona non c'è dna? di questa altra persona? no hanno trovato un altro dna nella stanza quindi probabilmente oh... non lo so perché allora il dna di Amanda è nella casa perché ci sta Amanda nel bagno che... eh... non lo so effettivamente tutti gli elementi ehm... portano a lui indicano solo la sua presenza sulla scena del delitto e ragazzi quanto pare anche Amanda da quello che c'è scritto dicono che è accertata la presenza di Amanda quella sera nella scena ipotizza ipotizza per la collocano lì ma perché ovviamente anche nel bagno ci sono in base alle sue dichiarazioni confuse contorte perché in bagno ovviamente c'è il suo dna ehm... non lo so ragazzi sono contenta che alcune cose non le scopriamo mai fino in fondo realmente o probabilmente appunto sono più semplici di quello che noi pensiamo grazie Mediolanum grazie Mediolanum vi regalo una sub anch'io vi regalo una sub vi ho detto grazie mille che a fine live a fine live ve l'avrei regalata voi cosa pensate concretamente di questo è un caso comunque molto molto difficile molto impegnativo da ovviamente da seguire poi la cosa più più completa e più importante che si possa fare ovviamente andare a leggere tutti gli altri le carte qua purtroppo non possiamo fare più di tanto grande grazie grazie davvero grazie eh sì esatto ragazzi anche perché se ci fosse stata una seconda persona con Rudy perché lui non fare il nome cioè perché proteggere quest'altra persona non infatti nella situazione in cui era lui non avrebbe avuto senso probabilmente quindi effettivamente era da solo comunque follia veramente un casino veramente un casino questo caso non lo so mi ha lasciato una roba non riesco a capire cioè sono veramente confuso cioè però ho provato anche a seguire questa parte qua del processo è stata boh a me dispiace tantissimo poi sempre mi ricordo di queste foto di Meredith sempre molto sorridente bellissima poi appunto come dicevo un'altra volta sai avevano un po' l'esperienza dell'Erasmus quindi tipo anche un po' immedesima cioè è stata veramente una cosa davvero brutta ragazzi cioè al di là è tutto c'era vent'anni è morta in questo modo ma ma raga terrificante senza alcun motivo cioè è veramente difficile da mandare giù veramente veramente impossibile no no ovviamente le inquiline sono state assolutamente interrogate tutte le amici di Meredith e gli altri personaggi secondari effettivamente non si è mai sentito parlare no no quindi è un bel caso un bel caso no scusate che dopo che appena finiamo ci mettiamo un attimo un po' di decompressione scusate elaborare anche un po' tutte le informazioni quello che è successo e poi ci rimugi no? ci pensi anche quando vai a dormire il giorno dopo cioè non è facile io volevo sapere se c'era scusami che ho quando mi hai fatto pensare quella cosa lì della ragazza ehm del belonese del belonese sì probabilmente hanno detto nulla di rilevante avevano un alibi insomma anche le coinquiline mi pare che fossero tutte o al lavoro o fuori comunque grazie Lollo grazie mille sì speriamo di farlo nel migliore dei modi no allora Lollo io ti ringrazio se ti abboni poi sembra che e quindi no non c'è comunque non c'è non ci sono novità non ci sono novità no perché sembrerebbe che la macchina non so se l'abbiamo già lo sai l'abbiamo vista passare per il Trentino così l'ho detto ma di che ora è l'articolo giorno fa ah non è passata dal Trentino no cazzata stando l'innocenza Raffaele manda assurdo come se sono stati parlati di un quasi decennio di vita questo caso molto contorto impossibile da capire appieno Rudy sicuramente era lì e dalle sue dichiarazioni non regge che l'assassino che lo ha visto lo abbia lasciato andare così infatti Amanda è una ragazza particolare con atteggiamenti molto strani che ogni tanto sarà parte di colpevolezza ogni tanto innocenza un caso purtroppo gestito male e risolvibile grazie Franci e comunque si ripeto il comportamento di Amanda poi ognuno ha proprio carattere sicuramente non ha giuvato a suo favore in tante occasioni però come sappiamo purtroppo non si può stabilire la colpevolezza e la innocenza della persona dal suo atteggiamento perché è stata che non ti tornava non ho fatto caso c'era Amato per posizionare magari una scala eh Marty non ci ho pensato questa cosa ma secondo me non non hanno trovato Skyli vicino e comunque sarebbe stato impossibile per dal punto di vista anche del tempo no impiegato per comunque la posizione la posizione di quella casa è veramente è particolare particolare e spaventosa sì 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 cioè sopra c'è tutto c'è la strada e c'è un vuoto in questa casa in una specie di villetta nel nulla cioè nella discesa cioè anche se ti metti a urgare non so è molto sì molto particolare Sara Scazzi sai che non ne ricordo poco è ovviamente il caso anche di Sara Scazzi dovremmo dovremmo affrontarlo ed è un altro pesante complicato senza fine e senza una verità poi fondamentalmente è certa perché poi ci pensi ovviamente ci hanno pensato quant'è che ha durato il processo? sette otto anni? cioè ci hanno pensato con otto anni qual'è Boa Paura? cos'è Boa Paura? non ho presente no ma Grudi non l'hanno lasciato libero no? no ha scontato 16 anni 16 anni di reclusione neanche 16 perché buona condotta è stato condannato nel 2009 ed è uscito nel 2000 quanto no è stato affidato ai servizi sociali credo qualche anno fa ora è libero si ora è libero in carcere credo che ci siano abbiamo ascoltato insieme il podcast si non credo Michele Misseri credo sia fuori sono in carcere la moglie e la figlia esatto la moglie e la cugina di Sara Scazzi beh ma lì anche lì un'altra storia contorta eh di invidie no? strano brutto io ho sempre avuto la mia idea su quello e lì è diverso al contrario c'è lì la cugina di Sara comunque sapete le scene drammatiche le scenate che faceva davanti ai giornalisti per poi quante versioni ha cambiato? essersi scoperto che è stata probabilmente la l'esecutrice a noi diciamo misseri del 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 di sua cugina cioè coperta dalla mamma e nel ruolo di Michele onestamente non lo ho mai capito probabilmente c'entra per l'occultamento del cadavere però lo affronteremo, lo affronteremo che lei era innamorata di questo ragazzo che però piaceva anche a Sara boh ha paura in film assurdo che non so se consigliarvi a meno che non vogliate impazzirci dietro ma non è un horror vero? che io non li guardo gli horror cioè è un thriller c'è qualche documentario di Anis Pipitone mi è sempre appassionata dalla storia perché sono sempre stata nella speranza che venisse ritrovata anche in distanza di anni sì, guarderemo anche quello si chiama Denise il documentario l'abbiamo visto tanto tempo fa guarda ti faccio vedere Sofì così si Sofì lo puoi riprendere guarda ti faccio vedere ah no ma ho capito quale intende ah la Rai no Sofì devo ancora guardarlo quello che è uscito su Schetti G24 è uscito un documentario il 13-14 novembre veramente adesso forse è disponibile dove non mi ricordo più su Nao TV e quello di Trincia e sicuramente lo dovrò guardare perché mi manca quello per chiudere il tassello qua ci sono le due crime quasi Lisa Claps e la Marco Vannini che secondo me sono due storie che per me mi hanno mi hanno suscitato molto cioè non è che c'è una storia più bella più brucia non esiste è proprio una situazione che veramente dentro di me mi ha dato ci ha fatto rimanere tantissimo male eh sì Sofì devo guardarlo immagino l'emozione sei cose che mi sono talmente bombardata auto bombardata di questa informazione riguardo a questa storia di Lisa Claps ho guardato oh vabbè podcast questi documentari insomma mille robe poi la serie che hanno fatto sulla Rai che volevo aspettare un attimo a guardare questo documentario sì poi ovviamente Vannini anche perché si poteva salvare la roba che c'è dentro il caso di Vannini è assurdo mi ha devastato surreale sì sì surreale povero povero ragazzo fuori di testa comunque qualche documentario sul Circeo sul Circeo non ho trovato documentari perché noi stiamo vedendo quelli di Discovery perché in questo momento la piattaforma streaming che possiamo utilizzare che comunque riusciamo a vedere in live però ti dico anche di quella storia sono ben informata sono andata oltretutto a vedere da sola avevo avuto la la brillante la brillante idea di andare a vedere da sola la scuola cattolica che è il film che hanno fatto appunto recentemente due anni fa sul massacro del Circeo e sono tornata a casa e ho letteralmente vomitato cioè stavo proprio male quindi onestamente non ce la farei in questo momento forse a riguardare un documentario su quella su quella roba lì cioè mi ha fatto proprio stare fisicamente male quindi è da conoscere sicuramente il massacro del Circeo però a me mi risulta veramente difficile guardare e ascoltare cose riguardo a questa storia scusa no poi stavo leggendo cosa ci chiedessero è un film ah giusto si vediamo un film inclassificabile ma non è sicuramente un horror ok vi dico solo che io e la mia amica abbiamo camminato in silenzio per 20 minuti prima di proferire parola surreale va bene me lo segno comunque me lo segno grazie del consiglio per il film va bene e certo poi anche il caso Emanuela Orlandi certo si 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 massacro del Circeo hai visto il video di Capso Lollo si si vedremo vedremo anche vedremo io vorrei vedere anche il caso Cucchi l'ho classificato diciamo insieme no no mi sa che ce l'hanno lo stesso elenco perché comunque lo affronteremo vorrei affrontare più questi casi come Cucchi G8 Costa Concordia insomma questi casi che magari non possono essere propriamente considerati ovviamente true crime true crime nel senso che è ovvio che è una cosa che è successa veramente ed è realtà però si magari sono classificabili sotto un altro tipo di cronaca però vorrei fare anche quelli sinceramente grazie grazie Lollo grazie davvero grazie sì ma è così racconto documentare supreme non potete solo con watch party sai che non lo so si con watch party si può con watch party si ma lo posso vedere solo gli abbonati perché comunque diciamo che per ora rimaniamo su un su un social che è twitch però qua su twitch no non possiamo no su twitch si guarda watch party ah su twitch si lo posso vedere solo gli abbonati ah non avevo capito che ignorante watch party non è un non è un un social no pensavo fosse tipo un altro mezzo per vedere capito no 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 è proprio una funzione e quindi e non so se potremmo farlo perché boh non mi sembra giusto no farlo solo per gli abbonati e no perché tu praticamente puoi vedere le robe prime solo sai l'account di prime per quello che si 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 se sei abbonato a prime come si dice sei autorizzato si marty ho presente ho presente un po' quella storia perché l'avevo sentita anche dalle book of madness che le seguo scusa e non so se ci non ho trovato documentare su quella storia invece si la storia di cookie è molto molto pesante soprattutto ti fa arrabbiare proprio tanto quindi si e borghi che aveva interpretato lui in come si chiamava come si chiamava il film di cookie non mi ricordo mamma mia ragazzi come si chiamava mi ricordo che ero a bordeaux in erasmus ed era appena uscito quel film anche lì ideona di vedermelo in camera da su una sera proprio male è sulla mia pelle sulla mia pelle brava franci franci bellissimo però bellissimo quello bisogna vedere quello è un film da vedere come Diaz come film che ha reso celebre borghi poi rebe vi ringrazio di cuore per accompagnarmi ogni volta che ho fatto una live siete unici che seguo perché mi sembra perché mi sembrate persone molto trasparenti senza filtri grazie a te grazie a te mi sembra gentilizia grazie Mirko grazie mille del tuo grande Mirko del tuo contributo ci diamo mercoledì prossimo con la crime domani alle 18 c'è il nuovo reality sapete sì no guarda non parliamo di hits no veramente psicopatico sì no guarda assurde certe storie sono veramente inspiegabili pazzesche pazzesche vabbè sto guardando un po' di casi qua sì 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 però vediamo cosa fare notte marica nella 12 ore vediamo cosa fare no il mercoledì prossimo perché ci stavo ci stavo pensando oggi ciao meglio ciao Pamela ci stavo pensando oggi e sono un po' indecisa devo essere onesta tra non so non so se affrontare un altro caso un po' pesantino come quello di Garlasco o se magari affrontare un caso che riusciamo diciamo a chiudere una live per Garlasco non lo so è una vediamo 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 un po' vediamo un po' ragazzi cosa valuterò valuterò insomma vediamo se magari può essere eh quella è molto molto pesante vorrei aspettare un attimo eh Marti di Erika e Omar ecco ecco io volevo io volevo fare Erika e Omar c'è il caso di Novi Ligure perché avevo appena ascoltato mi ero anche rinformata ascoltando Lisa True Crime indagini insomma mi ero preparata molto ma non ci sono documentari cioè non solo non solo su Discovery ragazzi magari voi potete consigliarmene qualcuno indicarmene qualcuno io l'ho cercato proprio sul web in generale e non ci sono documentari sul caso di Novi Ligure non ce ne sono quindi non saprei che supporto portare cioè non possiamo non vedere niente no sì potremmo anche parlarne così ma non mi sembra il caso però provare non lo so ma è difficile io non ho un'idea Shack Quas Zero no Pamela Mastropietro neanche io conosco onestamente no no però infatti a me sembrava molto strano cioè sembra molto strano che non abbiano mai fatto un documentario su Erika e Omar Rebe lo vado a cercare dopo perché a volte siete nelle richieste e spesso non magari siete nelle richieste nascoste o ci metto un attimo ad accettare tutti capito comunque lo cerco il tuo sì infatti non esatto è un caso ragazzi è un caso importantissimo di cronaca nera italiana cioè il diritto di novi ligure mamma cioè che è stato commesso da due sedicenni nel senso lei che ha ucciso lei lui che ha ucciso la madre di lei il fratellino cioè è troppo importante non capisco come mai non ci siano dei documentari provate magari a cercarlo anche voi magari voi se provi di me lo trovate ma io non riesco non riesco a trovarlo magari mi è sfuggito no non c'è impossibile non c'è e marty ce ne sono tantissimi ce ne sono tantissimi se vai nella sezione crime guarda io le ho spulciati tutti ho spulciato tutto il catalogo per segnarmeli però appunto non c'è come dire che è Omar ce ne sono tanti tante sì ce ne sono una marea sì sì voi se trovate mandatemi o comunque me lo fate sapere sì molto strano ma youtube si può vedere sì si può vedere perché se magari ne troviamo uno di youtube perché pensavo magari invece troviamo io seguo anche tante su youtube che fanno le ricostruzioni oltre ovviamente l'isa true crime se magari troviamo la storia di eric e Omar su youtube raccontato in maniera giusta in maniera corretta possiamo anche guardarlo da youtube certo ovviamente non è un documentario come questo magari ci saranno meno contributi però bene Marti sono contenta ragazzi conoscete il caso di Donato Bilancia no non lo conosco Lollo ma tu Marti non lo conoscevi quello di Novi Ligure ma perché forse eri piccolina quando è successo tu sei del 99 noi abbiamo 5 anni in differenza quando noi avevamo 5 anni eh 5 anni buonanotte quando è successo Novi Ligure noi quanti anni avevamo che non mi ricordo mi ricorderò ragazzino non mi ricordo forse eravamo alle medie aspetta che lo guardo Novi Ligure morto Donato Bilancia 3 anni fa beh sembra interessante infatti eri piccolina io anche io mi ricordo poco dei flash è successo nel 2001 figuriamoci io avevo 6 anni tu ne avevi 1 7 anni no tu ne avevi 2 io 7 non potevi ricordarti la pagina c'è su youtube il caso Novi Ligure la pagina si chiama cronaca nel italiano ok grazie pane allora avremo a vedere c'è anche un'altra ragazza che è l'occhio creepy su canale si chiama l'occhio creepy di youtube ve l'ho messo anche no ve lo metterò anche in qualche fronte è una ragazza che lo fai tipo l'isa come l'occhio creepy di youtube a me piace molto lei cronaca nell'italiana beh potrei eh si vediamo perché allora se lo racconta come l'isa è un po' difficile seguirlo qui in live se invece mette magari i contributi immagini vediamo vediamo un po' come come lo racconta e posso anche posso anche provare a vedere è una playlist mi esce ma forse è questo forse è questo no no è lei ma devi cercare no no è lei lei non si chiama così si chiama cronaca nera italiana è una playlist del suo canale di una ragazza ah eh provandolo indietro guarda è una sua playlist mente criminale vi ho girato il link ah e non lo vediamo il link in chat cogne lo farete si mi dici il titolo del video così lo scrivo please si anche cogne mi pare che ci sia su discovery il documentario ciao nigiri ciao anche i podcast parlano un sacco di cronaca nera ci sono alcuni fatti benissimo certo certo io ascolto di solito indagini vabbè elisa true crime vabbè demoni urbani però un po' più romanzato lì un'altra cosa e book of madness anche eccolo ah ecco vedi ragazzi sarà tre anni fa ed è ripreso chissà quanti anni ha madonna history è bello vecchio questo qua si vede tutto ragazzi si vede malissimo raga 240p faccio vedere qua un attimo raga questa è la qualità si vede un po' malino devo dire non proprio un caso che dici che dici non lo vedi benissimo però vabbè ne troveremo magari un altro dai un po' più un po' più recente eh sì è un caso molto 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 strano no 240p era già al massimo va bene ragazzi va bene ragazzuoli scuserebbe che programma hanno dato a Stefano Nazzi non non sono aggiornata su sui suoi impegni diciamo e niente eh il programma gli hanno dato eh indagini è fatto veramente molto bene è fatto veramente molto bene da un punto di vista poi della diciamo dell'accoglienza mediatica dell'opinione pubblica c'è comunque racconta un caso da questo punto di vista che non è così comune perché giustamente uno magari di solito i podcast ricostruiscono più gli avvenimenti l'omicidio in sé invece lui eh si concentra più su altri elementi ed è molto molto bello e niente allora raga noi ci vediamo domani poi ah delitti in famiglia ah ok ok ma ci vediamo domani che penso avrei 18 sì sì ci vediamo domani con questo con amore alla prova vediamo se c'è ancora se sarà uscita adesso la puntata cioè in realtà c'è perché noi siamo noi siamo abbonati sì sì ma non c'è una top di ecco ragazzi c'è la prima puntata cioè le prime due in realtà ah le prime due è già perfetta cioè in realtà noi non potremmo questa qui è solo per gli abbonati capito eh beh noi tanto dobbiamo vedere l'episodio 1 sì domani vedremo l'episodio 1 eh domani bello tosto insomma un'ora e cinque domani ammazza bella semplice prima del grande evento un'oretta e cinque di reaction non fa mai male beh ci vediamo domani alle sei domani alle sei raga mi raccomando carichi perché ci vediamo domani e poi domenica e quindi grazie per le sab abbiamo quasi raggiunto l'obiettivo per l'ospite della caserma yes grazie per il supporto sei sempre sempre più attivi durante la crime night sono molto felice ci si vi piacciono sì speriamo anche noi Rio ciao Marti Rebecca Nigiri tutti Sakura Pamela tanti sono già andati grazie ragazzi grazie mille tutti quelli che magari non scrivono si vergognano ma non abbiate paura di scrivere ragazzi scrivete è un posto un porto sicuro questo dove parlare non c'è nessun pregiudizio ciao Luna buonanotte Pamela ovviamente ciao i nostri moderatori che sono andati a letto ormai da un po' Sophie Chakwas ciao ciao a tutti ci vediamo domani ciao Lollo alle 18 Elisa buonanotte buona giornata ciao Marti a presto grazie di tutto ciao ragazzi ciao raga buonanotte ciao ciao ciao